bene ci siamo ci siamo ciao a tutti ben trovate buon pomeriggio benvenuti a questo secondo incontro abbiamo organizzato come collettivo risosfera per approfondire il tema delle tea delle tecniche di rivoluzione assistita abbiamo fatto un primo incontro sabato scorso che potete trovare la registrazione abbiamo fatto col professore andrea squartini dell'università di padua e oggi abbiamo due super ospiti e ringraziamo ufficialmente pubblicamente della loro disponibilità e gentilezza di voler divulgare e portare il loro punto di vista qui oggi che è salvatore cecarelli da salvatore e francesco panier di crocevia buonasera buonasera buon ciao penso che le presentazioni non servono ma faccio un breve abbia assunto di quello che potrebbe essere un lungo curriculum per entrambi salvatore cecarelli un genetista di fama mondiale che da oltre 30 anni lavora con agricoltori per promuovere l'uso della biodiversità in molti paesi e poi ci racconterà magari qualche aneddoto stavamo proprio parlando adesso del mutan prima di iniziare con la diretta e francesco panier è un attivista del centro internazionale crocevia che cura la comunicazione delle campagne del centro internazionale punto crocevia è una ong che da oltre 30 anni supporta i movimenti dei contadini per la sovranità alimentare in tutto il mondo quindi abbiamo due esperti in due diciamo tematiche importanti da una parte la parte più diciamo genetica con salvatore e dall'altra un approccio più la parte più diciamo di approfondimento giuridico amministrativo che ci porta francesco con tutto anche il lavoro che stanno portando avanti con crocevia quindi non mi dilungherei altro le ringrazio nuovamente e salvatore ti lascio la parola grazie prima di cominciare volevo soltanto ricordare francesco forse troppo giovane per ricordarlo che quando io sono andato a lavorare in siria nel 1980 quasi subito ho cominciato a lavorare con le vecchie varietà locali e antonio onorati ma allora presidente di crocevia fu molto colpito da questa cosa e in occasione di un mio rientro in italia organizzò un incontro nella sede di crocevia non mi chiedete dove dove fosse a quell'epoca con la dottoressa lennè la quale era appena uscita dal sistema dei centri internazionali di ricerca e mi ricordo che proprio di fronte ad antonio lei mi chiese ma te lo lasciano fare questo il mio contatto poi con antonio siamo rivisti in tantissime altre occasioni benissimo salvatore prima di partire dico soltanto a chi ci sta ascoltando sia su zoom che in diretta youtube che c'è la chat dove poter appunto fare delle domande quindi se avete degli interventi e scrivete pure lì e poi verranno filtrati da noi e verranno fatte direttamente a voi le domande nel momento dato quindi c'è questa possibilità perfetto grazie allora io mi sono permesso di inventarmi un titolo visto che enrico non me l'aveva dato diversità e biotecnologie voi vedete soltanto le depositive perché io vedo una parte anche vedo anche voi posso continuare sì sì vediamo soltanto le depositive perfetto e volevo cominciare volevo fondamentalmente occuparmi di quattro argomenti apparentemente alcuni dei quali apparentemente non collegati con gli altri il primo è quello dell'analfabetismo biologico perché credo che molta della narrazione prima degli ogm e adesso dei dell'nbt o tea faccia leva sul fatto che molte persone non conoscono bene alcuni termini del problema volevo ricordare che cosa erano state le promesse dei vecchi ogm parlare un po di quelle che secondo me sono le falle nella narrazione dei nuovi cosiddetti nuovi ogm per poi parlare di una soluzione ma che quella di riportare biodiversità e come spero di farvi vedere democratizzare i sistemi alimentari cominciamo dall'analfabetismo biologico volevo dedicare probabilmente una decina di minuti o anche meno o ad alcuni ad alcuni termini che ci aiutano a capire di che cosa si parla quando si parla di biotecnologie il nostro corpo così come quello della delle piante degli animali che ci circondano è fatto da cellule che sono strutture molto complesse ma che si possono semplificare dicendo che sono circondate da una membrana che racchiude una cosa fluida che è il citoplasma e all'interno c'è il nucleo che per noi è la parte più interessante perché lì dentro c'è il DNA di cui appunto poi parleremo il DNA è impacchettato in strutture che si rendono evidenti in certi momenti che si chiamano cromosomi sui quali appunto ci sono i nostri geni questi sono per esempio i cromosomi umani o per essere precisi sono i cromosomi di un individuo di sesso maschile come vedete questi cromosomi sono uguali due a due nella specie umana nell'individuo di sesso maschile l'ultima coppia la ventitresima coppia è rappresentata da due cromosomi leggermente diversi mentre nell'individuo di sesso femminile questi sono uguali su questo punto tornerò poi fra poco il numero dei cromosomi che è tipico di ogni specie non è in relazione con le differenze che esistono tra specie se voi guardate questi due individui sono totalmente diversi ma se voi guardate i loro cromosomi questi sono i cromosomi di un scimpanzé maschio confrontati con quelli di un uomo come vedete c'è una straordinaria somiglianza lo scimpanziare soltanto una coppia di cromosomi in più infatti hanno 20 24 coppie anziché 23 come noi infatti questi sono i cromosomi della segale del moscerino e come dicevo prima è più corretto parlare di coppie di cromosomi quindi noi abbiamo possiamo dire abbiamo 46 cromosomi in realtà abbiamo 23 coppie questo è importante perché al momento della riproduzione di ogni elemento o di ogni di ciascuna coppia soltanto uno dei due va nei nostri rispettivamente sprematozoi e cellule uovo in modo che il numero di cromosomi poi rimanga costante però nel caso degli uomini siccome come dicevo prima la ventitresima coppia è fatta da due cromosomi leggermente diversi fra di loro ci saranno due tipi di spermatozoi quelli con il cromosoma x e quelli con il cromosoma y questo non succede nel caso dell'individuo di senso femminile che promuovano uova tutte con le x per cui al momento poi della fecondazione ci saranno due possibilità come vedete si ripristina il numero di 46 cromosomi 22 coppie 23 coppie uguali nel caso della donna 22 coppie uguali più la ventitresima costituire due elementi diversi nel caso della degli uomini i cromosomi sono albergano i geni che sono quelli che controllano i nostri caratteri ma che cosa è un gene esattamente beh il gene è una porzione della molecola del dna che appunto sta dentro i cromosomi è lecito con una domanda importante è ma quanto è grande un genere la domanda la domanda è importante perché non so se voi vi ricordate due tre anni fa comparve sulla repubblica donna donne un articolo della senatrice cattaneo dove diceva che ora basta possiamo cambiare poche lettere del dna e a rendere la pianta resistente a parassiti riducendo le ruazioni di antiparassitari e terbicidi che cosa sono queste lettere di cui si parlava le lettere come vedete il dna è fatto di due eliche tenute insieme da quei bastoncini quei bastoncini non sono altro che coppie di basi che appunto si indicano con delle lettere g c t a che sono sempre accoppiati in questo modo per cui le dimensioni di un gene si calcolano a seconda di quante coppie di queste basi contiene e quindi in genere quando voi leggete degli articoli vedete un gene costituiva tante coppie di basi beh tanto per darvi un'idea negli organismi superiori la dimensione media di un gene è di circa 16 mila coppie di basi altro che poche lettere uno degli ultimi geni che è stato caratterizzato nell'uomo quello della distrofia muscolare costituito a 24 milioni di coppie di basi per cui i geni sono una cosa una cosa molto 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 complessa in genere si rappresentano queste strutture lineari con la posizione dei geni quindi ecco questi sono gli elementi che conviene sapere quando poi si leggono degli articoli sui sulle nuove tecniche di breeding o TEA quando parliamo dei dei scusate quando parliamo dei dei grandi problemi del pianeta la malnutrizione il cibo la biodiversità la perdita di biodiversità il clima l'acqua l'uso della chimica eccetera al centro di tutti questi problemi c'è il seme sul quale tornerò verso la fine perché il seme può essere la proprietà di pochi che poi decidono se darlo o se darlo in parti se darlo a tutti se darlo soltanto da alcuni oppure il seme può essere come dovrebbe essere condiviso o da molti che cosa promettevano o i vecchi o gm parliamo di 35 40 anni fa circa come sapete sono state grandi promesse io ero solito dire che quando sono stati proposti si ripromettevano di risolvere tutti i problemi del mondo tranne forse il conflitto tra israele e palestina è stato un grosso dibattito sui giornali questo alcuni titoli di quelli che comparivano io ne ho scritto anche uno grazie all'ex presidente della società italiana di biodinamica la Giulia Maria Crespi ma ecco anche in questo caso che cosa sono esattamente gli OGM la prima cosa che vorrei dire che non sono gli ibridi perché spesso mi capita di di discutere con delle persone che considerano le due cose come 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 se fossero la stessa etica cosa ecco questo vedete un campo di produzione di mais ibrido come vedete ci sono le file degli impollinatori e in mezzo ci sono le piante sulle quali si raccoglierà il seme ibrido alle quali è stato tolto il maschio per cui ovviamente il seme che si forma su queste piante senza la parte maschile deve essere deve essere necessariamente ibrido oppure si possono fare a mano come in questo caso per cui è una cosa completamente diversa perché gli ibridi e perché gli OGM in realtà sono organismi ottenuti trasferendo geni da una specie ad un'altra in un processo che natura non potrebbe avvenire esempio il golden rice di cui si è tornati a parlare recentemente è stato ottenuto inserendo nel riso un gene del narciso e uno di un batterio del suolo l'idea era quella di produrre la provitamina A per alleviare appunto la carenza di questa vitamina fra gli OGM più famosi ci sono i cosiddetti BT che ricevono il loro nome dal fatto che si è inserito un gene che proviene da bacillus thuringiensis quindi sono state prese le iniziali del batterio e questo produce una tossina che uccide gli insetti che si posano su queste piante quelli ancora più famosi sui quali che tornerò fa un momento sono invece quelli tolleranti agli erbicidi ottenuti anche in questo caso inserendo nelle piante un gene che viene da un agrobatterio un gene che viene dall'agrobatterio come voi sapete è stato un dibattito molto acceso tra chi sono sempre sostenute che sono stati in grado successo e chi invece li considera un fallimento questo dibattito è avvenuto in genere intorno a due concetti uno era quello della sicurezza del cibo ottenuto dagli OGM e l'altro era quello della contaminazione genetica nel frattempo mentre andava avanti questo dibattito gli OGM sono arrivati a 190 200 milioni di ettari con ovviamente un affare commerciale gigantesco parliamo di centinaia di miliardi di dollari ma di cosa parliamo esattamente quando parliamo di OGM perché questo è un problema che poi riguarderà anche sicuramente ITEA fondamentalmente parliamo di quattro culture parliamo di soia, di cotone, di colza e di gran turco che insieme rappresentano il 98,2% di tutta la superficie seminata ad OGM nel mondo poi c'è un altro circa 2 milioni di ettari c'è un po' di melanzana, di papaya, sono cose molto più piccole il grosso è costituito da queste quattro culture la parte del leone la fa la soia su oltre 90 milioni di ettari quindi intanto parliamo soltanto di quattro specie che sono quelle che occupano la maggior parte della superficie seminata ad OGM e poi geneticamente modificate per che cosa? per circa il 45% della superficie seminata ad OGM è seminata con OGM tolleranti agli erbicidi un altro 12% OGM resistenti agli insetti e un altro 42% di OGM che combinano tolleranza agli erbicidi per cui se fate due conti 45 più 42% l'87% dell'intera area seminata ad OGM è seminata con OGM tolleranti a erbicidi oppure tolleranti a erbicidi e ad insetti la tolleranza agli erbicidi è stata il carattere che è stato più frequentemente trasformato pensate che cosa siamo andati a fare se voi consultate la Weed Science Society of America una società che si occupa di erbe infestanti negli Stati Uniti negli anni pubblica un bollettino l'ultimo che ho consultato che è quello dell'anno scorso parla di 515 casi di infestanti resistenti agli erbicidi che riguardano 267 specie sia di cotiledoni che monocotiledoni resistenti praticamente alla maggioranza dei siti i siti di azione sono i processi fisiologici della pianta che vengono danneggiati dall'erbicida e oggi ci sono infestanti resistenti agli erbicidi in 97 culture in 72 paesi per cui noi siamo andati a trasformare 4 specie vegetali per la resistenza, la tolleranza agli erbicidi quindi cercando di combattere un nemico che ha una grande capacità di evolvere resistenza e di qui il mio argomento principale che è vero che c'è un problema di sicurezza del cibo è vero che c'è un problema di contaminazione genetica ma è ancora più vero che gli OGM biologicamente non possono essere la soluzione perché ignorano un principio biologico fondamentale che è il teorema fondamentale della selezione naturale che è un teorema che ha una formulazione matematica abbastanza complessa ma che dice una cosa molto semplice che se l'ambiente che circonda una popolazione un gruppo di organismi viventi cambia e come cambia? se voi entravi in un campo e spruzzate il glifosato l'ambiente che circonda quelle piante cambia perché voi ci avete messo il glifosato a quel punto le piante hanno soltanto due alternative o muoiono oppure evolvono oppure quelle che sono resistenti diventano le sole che sopravvivono e questo è esattamente quello che succede questo succede con il Covid con la comparsa di nuove varianti ma si conosceva da tempo con il fenomeno molto più diffuso a livello globale che è la resistenza dei batteri agli antibiotici ci sono articoli che compaiono a scadenze di 5, 6, 7 anni questo in alto comparto nel 2013 che parlava della minaccia della resistenza agli antibiotici negli Stati Uniti poi c'era un altro comparto nel 2018 un altro nel 2014 un altro nel 2018 e l'ultimo del novembre 2022 dove questa è la rivista medica più importante che parla di una vera e propria pandemia per quanto riguarda la resistenza dei batteri agli antibiotici che capita e causa circa 5 milioni di morti all'anno questa è l'evoluzione della resistenza ad alcuni antibiotici specifici storie raccontate non con tutto il rispetto per gli attivisti però ci sono storie raccontate dai ricercatori questa è raccontata dalla Crop Science Society of America nel 1997 arriva l'OGM di cotone tollerante all'ergicida qualche anno dopo gli agricoltori cominciano a trovare delle piante resistenti all'ergicida qualche anno dopo ancora il 92% degli agricoltori nello stato della Georgia ha dovuto riservare a mano la metà di tutto il cotone erano tornati indietro di 20 anni in un corpo solo e questa è l'evoluzione delle infestanti l'evoluzione della resistenza al grifosato nelle infestanti conseguenza inevitabile è che le vendite dell'uso del grifosato è andato aumentando ci sono anche delle statistiche più recenti e la stessa cosa sta avvenendo per tutti anche per i BT, per tutti gli altri OGM questi sono alcuni articoli di riviste scientifiche che parlano appunto dell'evoluzione della resistenza in quegli organismi che l'OGM intendeva controllare e sono articoli che compaiono continuamente quindi nella migliore delle ipotesi gli OGM rappresentano una soluzione immediata ad un problema che però ne crea uno ancora più grave cioè la compasta di una razza resistente nel caso degli infestanti, degli insetti e delle malattie si usa questo termine che in realtà nel caso dell'uomo non si dovrebbe usare questa storia ha vie precedenti che fanno sorridere Paul Hermann Müller è un chimico svizzero che nel 1939 scopre che il DDT uccide le mosche e siccome già allora la malaria era un problema importante nel giro di otto anni, cosa abbastanza rapida ottiene il premio Nobel il problema è che il povero Paul Hermann Müller non fa in tempo di andare a Stoccolma a ridicare il premio che erano già comparse le prime mosche resistenti al DDT per cui si capì che il DDT non poteva essere la soluzione infatti non lo è stato della malaria un'altra storia interessante è quella della di Pont i chimici di questa ditta che fa tante cose diverse nel 1939 fanno una scoperta clamorosa scoprono i nylon, calze di nylon adesso non mi sembra che si usino molto ma fu un affare commerciale incredibile fu un affare commerciale di un tale successo che i chimici del DDT dovessero tornare in laboratorio e modificare la molecola del nylon perché queste calze non si rompevano mai per cui poi io sono cresciuto in un'epoca in cui mi ricordo molte delle mie amiche e colleghe si lamentavano che le calze si rompevano molto spesso beh non vi sembra interessante che 60 anni dopo Adipon produce OGM cioè applicando fondamentalmente la stessa filosofia dell'obsolescenza programmata per cui io fabbrico una cosa che dura un numero di anni limitato per cui poi se ne posso vendere un'altra esattamente quello che succede con gli OGM queste critiche agli OGM la cosa interessante è che poco tempo fa questo è del luglio del 2022 sulla rivista Importante è compasso questo articolo scritto dai fautori da quelli che propongono le NBT, TEA con i vari nomi eccetera e sono loro che dicono che gli svantaggi degli OGM includono reazioni allergiche nell'uomo riduzione della nutrizione rilascio di tossine nel suolo induzione della resistenza induzione della resistenza quindi lo riconoscono e diverse preoccupazioni di carattere etico e aggiungono ovviamente che in considerazione di questi svantaggi cioè per 35-40 anni ci hanno promesso le meraviglie e adesso ci dicono che ah no, ce l'avevamo sbagliati e adesso vi proponiamo la tecnologia del genome editing quindi TEA e NBT e quindi di nuovo campagne pubblicitarie la mentele che l'Europa non le permette poi in Italia escono con questo termine assurdo perché di evoluzione in realtà queste tecnologie non hanno assolutamente nulla e tutta questa narrazione ha una serie di falle che appunto fanno breccia giocando sull'analfabetismo biologico di cui parlavo prima la prima falla è nella comunicazione quante volte avete visto una foto di questo genere o una foto di questo genere e queste non c'entrano niente perché il DNA dentro le cellule non è quello ma è questo cioè è un gomito praticamente solo due metri angrovigliati su se stessi per poter essere impacchettato dentro la cellula quindi intanto non so quanti di voi hanno visto questa foto sulla destra ma questo è il DNA dentro una cellula la seconda falla è la precisione ritornando a quell'articolo che prometteva questa straordinaria precisione per cui si potevano cambiare soltanto poche lettere a parte il fatto che come avete visto le lettere sono tutt'altro che poche da quell'articolo su Repubblica Donne ne sono comparsi almeno una ventina questi sono i primi che denunciano che tutte le volte che si usa questa tecnica per cambiare un gene nella posizione X succedono dei disastri nella posizione Y dove Y non è prevedibile di dove sia cioè in altre zone in altri cromosomi su altri geni si provocano dei danni di varia natura che non sono né controllabili né prevedibili arrivando appunto di causare delle vere e proprie rotture di cromosomi questo è un articolo che è comparso qualche tempo fa un fenomeno particolarmente allarmante perché sembra essere il fenomeno da cui si parte la catena di eventi che porta allo sviluppo dei tumori nell'uomo terza falla la genetica di nuovo come vedete probabilmente di questo non se ne parla mai proprio perché si si scommette sull'alfattismo biologico i caratteri agronomici più importanti sia nelle piante che negli animali sono cosiddetti quantitativi perché sono controllati da molti geni che stanno anche su cromosomi diversi faccio vedere alcuni esempi questi sono tre caratteri molto importanti nell'orzo la resistenza alla siccità la resistenza alla salinità nel terreno e la resistenza al ristagno di acqua nell'orzo voi sapete che un consiglio che si dava sempre agli agricoltori non seminate mai l'orzo in un avvallamento dove l'acqua tende a ristagnare perché altrimenti l'orzo è particolarmente sensibile a questo ecco allora le zone dei cromosomi che sono responsabili per la resistenza alla siccità sono quelle in rosso questi sono l'orzo ha 14 cromosomi cioè 7 coppie e qui vedete infatti i 7 cromosomi un elemento per ogni coppia come vedete i geni per la resistenza alla siccità sono un po' dappertutto così come quelli per la salinità così come quelli per il ristagno di acqua quindi dove andate anche con quelle forbicine o con quelle pizzette dove andate a tagliare per modificare o per migliorare alcuni di questi geni questi sono i geni per la struttura della pannocchia e della forma della granella del riso come sapete la forma della granella del riso è molto importante per la classificazione merceologica della specie però dicono quando si fa questa obiezione dicono ah sì però poi la resistenza alle malattie invece è una cosa molto più semplice ed è quello che noi vogliamo soprattutto affrontare beh sono loro stessi cioè i genetisti molecolari che gradualmente ci hanno detto che anche la resistenza alle malattie è geneticamente molto più complessa di quello che si pensava in passato questi sono quattro dei sette cromosomi dell'orzo e come vedete questa malattia che in inglese si chiama met blotch i geni sono un po' dappertutto stessa cosa per il riso questi sono tre malattie come vedete praticamente c'è qualche cosa in tutti i cromosomi questa è la peronospora nel pomodoro questi sono cinque dei cromosomi del pomodoro anche lì anche in questo caso i geni sono un po' dappertutto questo è il colpo di fuoco batterico nel perro vite come voi sapete quest'anno c'è stata una recrudescenza della peronospora un po' più in alcune varietà un po' meno in altre ma anche questo ci sono tre geni principali su tre cromosomi diversi che su questo tornerò fra un momento tra altre cose non è che spiegano tutto della resistenza alla peronospora ma spiegano dal 20 al 30% per cui anche ammesso che voi li modificate questo qua è il risultato l'avete controllato soltanto un 30% della resistenza alla malattia questo è il meno qui la situazione sembra un po' più semplice in questa malattia ma anche qui soltanto una parte della resistenza è spiegata dalla genetica e questo porta ad un altro ad un'altra falla che nella maggior parte che i caratteri quantitativi non solo sono caratterizzati dal fatto di essere controllati da molti geni sparsi sparpagliati un po' su diversi promosomi ma sono anche molto influenzabili dall'ambiente per cui anche ammesso in un concesso che voi riuscite a metterci le mani c'è sempre la parte ambientale che dipende da dove come l'animale viene allevato da dove come la pianta viene coltivata e questo mi porta a parlare dell'epigenetica una cosa della quale non si parla mai del TEA dunque noi per decenni siamo andati avanti con quello che si chiama il dogma centrale per cui il DNA contiene l'informazione genetica questa viene copiata nell'RNA che la porta sui ribosomi che sono alcune particelle che saranno nel citoplasma lì si formano le proteine che è il punto di partenza per l'espressione di un carattere che poi verrà più o meno modificato dall'ambiente ecco con l'epigenetica negli ultimi dieci anni noi abbiamo capito che ci può essere anche il fenomeno opposto cioè che l'ambiente ha in qualche modo modificare il modo di esprimersi del DNA per essere più chiaro ci sono soprattutto queste sostanze che sono dei gruppi metilici queste pallette rosse che si legano al DNA e non è che lo modificano e questa è l'essenza di tutto il problema loro non modificano il DNA semplicemente lo silenziano e quando si staccano lo riattivano per cui con quella palletta rossa attaccata in quel punto quel gene che sta lì sotto non si esprime siccome questa palletta può rimanere attaccata anche durante la riproduzione pensate un po' tutto questo può essere anche ereditario può passare alla progenia successiva per un numero di generazioni fino a che la palletta non si stacca per cui c'è tutta una serie di espressioni che noi vediamo nel mondo vegetale e nel mondo animale che ci circonda che non ha nulla a che fare con la struttura del DNA che quelle pinzette e quelle forbicine vorrebbero cambiare e che invece dipende da per esempio dall'epigenetica nonostante di tutto questo il dibattito è fondamentalmente stato sono gli OGM le NBT uguali e diversi sicuramente Francesco parlerà che dal punto di vista legale questa è una questione fondamentale perché una decisione legale sugli OGM era già stata presa per cui se le NBT venissero dichiarate degli OGM come in effetti sono perché faccio una breve parentesi fondamentalmente voi sparate questi geni anche se sono della stessa specie un po' come si sparano una vicella spaziale con un vettore è il problema che un pezzo del vettore che non c'entra niente con la specie può anche rimanere inserito di questo il dibattito c'è stato fra TEA e OGM sono diversi o meno però per concludere su IDEA e passare a possibili soluzioni io volevo dire ammettiamo pure che tutte queste difficoltà tutte queste falle vengano in qualche modo tappate se noi riusciamo a fabbricare un organismo che riesce a sopportare gli attacchi di questi cosiddetti nemici erbe infestanti malattie ed insetti noi ritorniamo al teorema fondamentale della selezione naturale cioè in termini evoluzionistici noi creiamo un ostacolo che questi organismi non hanno difficoltà a superare un insegnamento che già ci dava questo professore di genetica che scrisse a questo tempo a suo tempo ritorno alla resistenza in cui diceva non fate piante che siano completamente resistenti perché se le fate la malattia lui parlava soprattutto di malattie delle piante evolve e se voi invece consentite a quel fungo di riprodursi quindi la pianta è moltamente resistente ma non assolutamente resistente i danni sono limitati ma nello stesso tempo voi impedite rendete inutile a quel quell'organismo non ha bisogno di evolvere per resistenza quindi la soluzione ce la dà l'ecologia l'ecologia che studia i sistemi naturali ci dice che ad una maggiore diversità corrisponde a una maggiore produttività quindi da da mangiare al mondo questa cosa che ogni tanto viene fuori e una maggiore resilienza quindi si tratta fondamentalmente di applicare questa relazione cosa che l'agricoltura industriale assolutamente non fa con queste culture completamente uniformi per cui gli OGM e le NBT vanno viste anche in questa prospettiva non sono altro che un ulteriore passo verso quell'uniformità che noi denunciamo come un male uno dei mali peggiori dell'agricoltura industriale perché quella uniformità implica vulnerabilità ma avete mai pensato che il fatto che le grandi corporazioni dei pesticidi non è un caso perché quei semi senza i pesticidi non funzionano proprio perché l'informità dei semi ha bisogno di essere protetta quindi la soluzione alla biodiversità è fondamentalmente di non seminare i noccioli dove l'ecosistema prevede altre culture aumentare il numero di specie coltivate anche il portafoglio delle specie coltivate in azienda aumentare la diversità intorno e quindi più varietà quello di cui volevo parlare aumentare la diversità entro cioè coltivare campi di frumento in cui le piante sono tutte diverse le une delle altre che sono appunto i miscugli e le popolazioni evolutive due termini che si usano come sinonimi anche se sinonimi non sono perché i miscugli si fanno semplicemente mescolando del seme di diverse varietà mentre le popolazioni si fanno facendo prima degli incroci quindi il miscuglio vedete il caso di fagioli diverse varietà si mettono in un salatiera fa del miscuglio e lo seminate mentre invece la popolazione evolutiva fra le stesse varietà fate gli incroci e poi mescolate il seme risultante dagli incroci che cosa succede in un campo dove le piante sono diverse avvengono sempre anche nelle specie che normalmente si autofegondano come il frumento avvengono sempre un po' di incroci che avvengono anche nelle varietà moderne ma siccome sono fatte di piante tutte uguali incrocio fra uguali ovviamente non porta a nessuna differenza qui invece ovviamente compaiono continuamente tipi nuovi quindi queste popolazioni gradualmente si evolvono noi ne abbiamo fatte negli ultimi anni in cui eravamo in Siria ne abbiamo fatte tre una di orzo mescolando i prodotti di 1600 incroci una di frumento duro mescolando i prodotti di 700 incroci e una di frumento tenero mescolando i prodotti di 2000 incroci sono arrivati in Italia nel 2010 con uno dei progetti europei con il nome di popolazione evolutiva Icarda e sono andate a finire nelle mani di tre agricoltori perché Icarda perché Icarda era l'acronimo dell'istituto in cui noi lavoravamo in Siria che abbiamo lasciato così oggi non sappiamo esattamente in che condizioni sia ma quello che è successo è che uno dei tre agricoltori non ha mai dato insieme a nessuno gli altri due hanno cominciato a coltivarlo lo coltivano a tutt'oggi quindi l'hanno coltivato per circa 12 anni e la cosa interessante è che un agricoltore marchigiano ha comprato un po' di seme dall'aricoltore toscano e un po' di seme dall'aricoltore siciliano dopo dieci anni che i due coltivavano la popolazione evolutiva e questo è il risultato sulla destra vedete la popolazione evolutiva icarda dopo dieci anni che era coltivata in Sicilia e sulla sinistra scusate e sulla destra la popolazione evolutiva icarda dopo dieci anni che era coltivata in Toscana come vedete sono diventato due cose completamente diverse unicamente ad opera dell'ambiente altro che TEA queste poi sono state rinominate perché noi volevamo assolutamente che avessero un nome che ricordasse la regione geografica del mondo da cui venivano le abbiamo rinominate FURAT che in arabo significa Eufrate Aleppo era 100 chilometri dell'Eufrate è una scienza che ha quasi cento anni il primo lavoro scientifico è del 1929 che ha dimostrato che popolazioni evolutive miscugli cambiano la loro epoca di spiegatura e di maturità a seconda dell'ambiente in cui vengono coltivate diventano gradualmente più produttive sono più stabili nel tempo delle varietà uniformi sono più resistenti alle malattie e controllano le infestanti molto meglio delle varietà moderne noi abbiamo riassunto tutta questa scienza in queste 140 pagine di questo manuale che adesso stiamo traducendo in italiano ma fondamentalmente siccome eliminano l'uso della chimica sono ideali per l'agricoltura biologica e quindi contribuiscono a mitigare l'effetto negativo dell'agricoltura sul cambiamento climatico e da questo punto di vista devo ricordare che una delle differenze fondamentali tra l'agricoltura biologica e l'agricoltura industriale è proprio l'eterogenità della prima nel senso che l'agricoltura biologica è fatta di aziende fra di loro tutte molto diverse quindi l'agricoltura biologica e l'agricoltura industriale non possono essere servite dagli stessi programmi di miglioramento genetico e dallo stesso sistema di produzione del seme e di qui il vantaggio delle popolazioni evolutive perché non solo riportano biodiversità in agricoltura e anche sulla nostra tavola con dei benefici per la salute ma soprattutto i contadini si riappropriano del controllo del seme non tanto e non solo per motivi ideologici ma per motivi biologici perché non ci può essere seme migliore di quello di una popolazione o di un miscuglio che anno dopo anno si evolve letteralmente sotto i tuoi piedi e al contrario gli OGM e l'ETEA non sono altro che il perfezionamento del monopolio del mercato sementiero quindi da questo punto di vista sono esattamente l'opposto questa idea di miscuglie e popolazioni evolutive che è partita nel nostro caso con frumento e orzo si è poi diffusa con questo progetto sui fagioli rampicanti in Basilicata sulle zucchine nelle Marche sul pomodoro in Via Romagna poi ovviamente queste popolazioni sono andate in giro per l'Italia sul riso in Lombardia e Piemonte e l'ultima delle cose che stiamo facendo cercando di fare un miscuglio sui ceci in Molise per contrastare una malattia che si sta diffondendo tutto questo per concludere ha creato tutta una serie di filiere anche proprio per farvi vedere che queste cose si possono ottenere dei risultati con un beneficio economico anche per gli agricoltori questi sono alcuni dei prodotti di queste popolazioni evolutive di Carda che alcuni preferiscono chiamare il miscuglio di Aleppo perché ovviamente suona commercialmente suona molto bene che sono vari prodotti questi sono i fagioli rampicanti del pollino questi miscugli di quattro miscugli fatti con fagioli autottoni che hanno lo stesso tempo di cottura in ciascuno dei quattro miscugli ma è come vi dicevo prima il concetto che i contadini si rappropriano del controllo del seme ha una importanza straordinaria perché qualche tempo fa su Nature che come sapete è una delle riviste scientifiche più importanti è compasso questo articolo sulla democratizzazione dei sistemi alimentari è un articolo che dice che tutti noi sappiamo cioè che un numero limitato di attori controlla cosa viene coltivato come viene coltivato e dove viene coltivato controllano anche come il prodotto viene trasformato distribuito consumato e a che prezzo aggiungerei quindi controllano il nostro cibo e la cosa interessante è che lo stesso editoriale che avete visto è un articolo brevissimo di mezza pagina non lamenta soltanto questa situazione ma dice anche come uscire da questa sorta di circolo vizioso che riguarda tutti noi e lui lo sostiene che per uscire da questo circolo vizioso è necessaria l'innovazione e indovinate un po' che cosa include fra le possibili innovazioni e riappropriarsi del controllo del seme è una di queste innovazioni per cui le popolazioni evolutive miscuglie non solo riportano diversità in agricoltura sulla nostra tavola con le conseguenze accennavo prima sulla nostra salute perché i medici ci dicono che dobbiamo avere una dieta quanto più diversificata possibile ma contribuiscono anche potrebbero possono e contribuiscono anche a democratizzare i sistemi alimentari e con questo concluso grazie grazie mille Salvatore della tua presentazione e su quello che hai condiviso c'è qualche domanda tra di noi o dalla rete qualcuno se è riuscito a vederle Isa Dimitri voi avevate qualche la youtube non c'è niente ma quella Francesco ha alzato la mano ma non so sì dai vai Francesco scusate io ho una piccola domanda perché intanto volevo ringraziare tantissimo Salvatore perché davvero è stata una presentazione molto interessante che almeno a me ha risuonato moltissimo e volevo chiederti capita a me è capitato alle volte di leggere che con appunto le new genomic techniques le new breeding techniques come vogliamo chiamarle è possibile modificare alcune regioni del genoma che sono normalmente protette dalle mutazioni generate invece da altri fattori come per esempio l'ambiente e che questo può essere un ulteriore fattore di rischio volevo sapere se ti risulta e come può avvenire questo tipo di intervento davvero puntuale e come dire invasivo ma come ti dicevo prima intanto se voi se voi leggete questi articoli vi prego di porre particolare attenzione ai verbi che usano che sono sempre futuro o condizionale che sono esattamente gli stessi tempi dal punto di vista dell'uso dei verbi che si usavano nel caso degli OGM tu puoi raccontare tutto quello che vuoi questa tecnica fondamentalmente è copiata da un meccanismo che possiedono i batteri per difendersi dai virus però guarda il batterio quando viene attaccato da un virus e gli spara dentro questi enzimi queste sostanze a lui non gli frega niente di danneggiare la DNA da una parte in questo caso l'RNA probabilmente del virus da una parte o dall'altra perché una volta che tu gli scassi l'RNA il virus non funziona più per cui nell'uso che ne fanno i batteri la precisione non è necessaria loro cercano di rivendercela come se fosse invece una proprietà quasi il resto alcuni denunciano il fatto che ogni tanto capitano delle cose che non possiamo controllare fino a quando capitano però tu la tecnica non me la proponi quindi poi c'è certo poi si inventano magari vanno a modificare una cosa che io non ho detto i cromosomi ovviamente poi si scambiano delle parti fra di loro e questo quindi genera diversità eccetera però i cromosomi hanno per esempio nel caso dell'orzo dove sono ci sono delle zone che non cambiano mai ecco quello potrebbe essere ma sai quanto ci hanno lavorato su questo con le radiazioni però quelli sono dei meccanismi che hanno dietro le spalle millenni di evoluzione in cui l'evoluzione stessa tu metti metti nei panni di un organismo che si evolve e alla fine riesce a impacchettare una serie di geni che lo fanno stare bene è ovvio che questo li protegge dal fatto che questi cambiano perché gli sono venuti millenni perché questo per cui a me l'idea di lasciar fare la natura cioè quindi tu offri alla natura tutta quella diversità che facevo vedere in uno di quei campi e poi lascia fare la natura anche perché siccome uno dei temi che ricorre più spesso è quello del cambiamento climatico consentitemi di rubarvi altri due minuti per dirvi che una delle cose che non ci dicono mai del cambiamento climatico è che non è solo temperatura e piovosità perché tutti quelli che lavorano nei campi sanno che quando cambia temperatura e umidità e temperatura e piovosità cambiano anche malattie vedi la perorospora quest'anno a causa delle piogge di luglio erbe infestanti e insetti vedi la cimica cinese che compare all'improvviso nei peri nelle piantagioni di pero in Emilia-Romagna cioè c'è tutta una serie di se noi non siamo in grado di prevedere esattamente di quanti gradi aumenterà la temperatura e di quanti millimetri diminuirà la velocità perché non siamo in grado siamo in grado grosso modo a livello di macro aree ma non di piccole aree io non sono in grado nemmeno di dire a un contadino il clima da te fra dieci anni sarà così ma allora se io non lo so non so nemmeno che malattie che insetti allora diamo a questo contadino un portafoglio di investimenti perché questo è quello che si fa nella finanza le popolazioni evolutive non sono altro che un portafoglio di investimento finanziario lo stesso identico concetto applicato all'agricoltura ma allora come mettiamo a riparo dal rischio i nostri risparmi ubbidendo al nostro consulente finanziario di diversificare i nostri investimenti e con le piante che ci danno da mangiare facciamo esattamente il contrario quindi fondamentalmente da questo punto di vista per questo io mi arrabbio molto perché tra le altre cose visto che parliamo di aneddoti uno dei fautori dell'Etea è un professore è un milanese che insegna a Pisa con il quale io sono stato in Etiopia a vedere le popolazioni evolutive per cui lui lo sa e secondo me lui ha inventato il termine tecnica di evoluzione assistita per farmi rabbia e me la fa e ci ha riuscito perché non hanno nulla di evolutivo per cui è una vera e propria provocazione scusate mi sono lasciato un aneddoto questo aneddoto personale vedo una mano alzata da Andrea che però è muto Andrea sei muto o ammutolito? io sono ammutolito ma perché questi interventi mi mettono sempre un casino di pensieri addosso cioè ci metto un po' di tempo a digerire tutte queste informazioni però la ringrazio molto del suo intervento perché è bene e farsi tante domande ed è bene fare girare i neuroni il problema è che io ho dei contatti con molti agricoltori che fanno parte della Coldiretti e loro non si rendono conto tra le altre cose agricoltori molto virtuosi che sono rimasti molto spiazzati proprio concettualmente dal fatto che la Coldiretti abbia preso posizione in favore di queste tecniche nonostante gli addetti ai lavori queste cose che io vi ho raccontato io non sono un biotecnologo per cui io vi ho raccontato cose che che leggono la letteratura scientifica ovviamente che la parte della letteratura scientifica è in inglese nessuno si prova probabilmente di tradurlo in italiano per cui anche questo è un è un meccanismo di disinformazione o di mancata informazione sul quale si gioca molto però gli addetti ai lavori secondo me avrebbero il dovere morale di raccontarle queste di raccontarle queste cose e quindi visto che loro non lo fanno cerco di farlo io documentandomi anche se non ho le però per esempio un addetto ai lavori che voi forse qualcuno di voi forse conoscono che è Daniela Conti che è una biotecnologa lei anzi vi invito ad andare sul suo blog se riuscivi a trovarlo perché lei scrive degli articoli tra le altre cose sono molto tecnici per questo conviene avere un minimo di background dal punto di vista biologico per poterli leggere ma lei per esempio vi racconta un'altra cosa che non ci dicono mai come si fa a trasformare una pianta dal punto di vista genetico non è che prendete la pianta e gli sparate addosso del DNA no voi avete delle cellule in soluzione immaginiamo una sorta di brodaia lì dentro c'erano delle cellule e lì sparate c'erano delle macchine che bombardano e ci mandano dentro questi pezzettini del DNA che nel caso degli OGM venivano da Narciso o da un batterio nel caso dell'NBT vengono dalla stessa specie ma non tutte le cellule che stanno in questa brodaglia verranno trasformate come fate a riconoscere quelle che sono state trasformate perché insieme a quel gene c'è anche un pezzettino di DNA con il gene per la resistenza agli antibiotici allora una volta che voi avete bombardato avete tutte queste cellule mettete sopra l'antibiotico quelle che sono state trasformate e che quindi hanno incorporato anche il gene per la resistenza agli antibiotici resistono e quindi voi quelle risolate quelle sono le cellule trasformate da cui ottenete la nuova piantina ci hanno fatto una vacca senza corna che adesso è resistente agli antibiotici per cui speriamo che non sia male queste cose non me le raccontano mai cioè quel gene e adesso sembra che esiste un'altra possibilità ma questa è talmente consolidata un'altra cosa di cui non ho parlato ovviamente la faccenda dei brevetti di cui probabilmente parlerà Francesco loro gli dicono ah sì ma tu accusi sempre le multinazionali ma se queste cose le facesse un istituto pubblico ma voi pensate che un istituto pubblico queste cose le fa parte da zero no ci sono tante ditte che vi mandano i kit che sono tutti brevettati per cui come fai a non parlare di brevetto tu compri delle cose brevettate vero Francesco vero sì e tra l'altro alle volte l'altro interesse che c'è negli istituti pubblici nei centri di ricerca è quello poi di sviluppare questo tipo di tecnologie e venderle in licenza alle multinazionali quindi anche all'inverso funziona sì ma è quello che si diceva che mi criticavano quando io ai tempi degli OGM dicevo sì ma voi poi fate una varietà e siccome contemporaneamente le ditte che fanno che facevano gli OGM che fanno ancora gli OGM sono anche quelle che controllano il mercato mondiale dei semi ovviamente mi ricordo che comparve un articolo Enrico dimmi quando mi devo fermare perché i vecchi pensionati che non si fermano più abbiamo ancora un bel po' di tempo quindi raccontaci pure qualche anno fa comparve qualche anno fa comparve sulla rivista tra i più importanti negli Stati Uniti un articolo che testimoniava la straordinaria accettazione da parte dei contadini americani dell'OGM di non ricordo di Gran Turco o qualcosa del genere e io mi ricordo che siccome ho frequentato gli Stati Uniti conosco molti amici so come era la situazione gli ho chiesto ma scusa siccome chi vende l'OGM è anche quello che vende il seme e io so che il meccanismo è di far provare sul mercato del seme soltanto SEME OGM è una vera e propria libera accettazione o una mancanza di scelta e lui mi rispose domanda interessante e il messaggio finì lì cioè capito loro poi ti te la raccontano come dimostrazione del grande successo è che i contadini usano quel seme ma non ti dicono che non ce n'è altro sul mercato per cui di fatto non l'hanno scelta e faranno la stessa cosa ovviamente con l'NBT vedete che è successo perché mi dicono Daniela da questo punto di vista mi ha molto tranquillizzato dicendo che la strada è ancora lunga per vedere alcune di queste cose nei campi però ovviamente io sono a contatto con alcune associazioni di SID Savers che ovviamente sono molto preoccupati perché è una preoccupazione lecita che tra le altre cose è una preoccupazione molto più generale e non è limitata soltanto all'NBT è successo qui da noi nelle Marche un contadino custode di una cipolla tipica di questa zona che si è visto seminare per seme una cipolla ibrida a un chilometro e duecento metri di distanza mentre la distanza minima per evitare la contaminazione genetica delle cipolle è di due chilometri fortuna siccome noi compriamo da questo agricoltore biologico lui era disperato e siccome conoscevo anche la ditta sementiera che aveva seminato l'ibrido e la conosco perché si tratta di gente veramente in gamba gli ho detto guarda io sono quasi certo che la ditta sementiera non lo sapeva la colpa è della regione Marche che non ha infermato la ditta sementiera che quel contadino con cui ha fatto il contratto sta a un chilometro e duecento metri dai tuoi campi e infatti la ditta sementiera è andata da lui gli ha fornito tutto il materiale necessario le reti a costo sopportando il costo necessario per cui però voglio dire può succedere anche nel modo nel senso nessuno si è mai preoccupato di fare una legislazione contro gli ibridi però se uno disemina un ibrido il vicino disemina un ibrido e tu c'è una vecchia varietà di Gran Turco ovviamente tu la varietà di Gran Turco la saluti e in questo momento non c'è nessuna protezione se non quella di assicurarsi per questo a questo punto l'idea di avere una struttura tra tutti coloro che conservano semi più o meno antichi diventa indispensabile perché se noi ci condividiamo un po' di seme di una certa varietà fra 5 6 7 8 aumenta la probabilità che uno di noi sia abbastanza lontano o qualunque altro possibile inquinante quindi la varietà non si perde infatti volevo posso farle una domanda praticamente sì ovviamente i piccoli agricoltori gli agricoltori come noi coltivano magari campi piccoli di cereali tutti i nostri colleghi insomma che conosciamo coltivano cereali antichi però appunto mi rendo conto che gran parte delle coltivazioni in Italia di grano di mais comunque sono ibride cioè sono ibridi e non sono persone che si mettono via i semi diciamo quello che dà da mangiare appunto all'industria non mette via i semi quindi ecco mi chiedevo è replicabile a livello se non globale nazionale appunto la soluzione che propone lei riuscirebbe a sfamare secondo lei tutta la popolazione tranquillamente ha delle rese che equivalgono a quelle del convenzionale così per curiosità in questo momento intanto quando si parla di rese e di fame non dobbiamo mai dimenticare che buttiamo nella bidona della mondezza il 30% di quello che produciamo in agricoltura pensate che in questo momento ci sono circa 800 milioni di persone che soffrono la fame nel mondo e che semplicemente riducendo riducendo quel 30% eliminando quel 30% di sprechi alimentari noi potremmo secondo alcuni addirittura azzerare secondo altri dimezzare quella la percentuale che soffrono la fame nel mondo intanto quindi come prima cosa non buttiamo quello che l'altro problema che forse avremmo dovuto approfondire è che uno dei motivi del gap produttivo che esiste tra un'agricoltura virtuosa e quella industriale è che i semi vengono selezionati fondamentalmente per l'agricoltura industriale non c'è nessuno in Italia per esempio c'è una ditta che sta a moda era una ditta piccolissima che produce seme biologico cioè di seme biologico di seme selezionato in modo specifico per il biologico ce n'è pochissimo tant'è vero che in biologico si semina in deroga seme che non è stato selezionato per il biologico quindi se 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 lei tiene presente che il processo di selezione anche quello con il breeding con il miglioramento genetico tradizionale dura non meno di 7 8 9 anni durante i quali tutto il processo di selezione viene fatto nella stazione sperimentale proteggendo le piante con la chimica dando concimi dando acqua quando non piove abbastanza eccetera e lei ottiene questa nuova varietà questa nuova varietà lei assemina in biologico che cosa si aspetta è certo che produce di meno cioè e allora e siccome come accennavo l'agricoltura biologica è fatta di realtà fra loro molto diverse il che significa che bisognerebbe produrre tante varietà e di ciascuna ovviamente relativamente poco seme nessuno trova riesce a fare profitto producendo seme poco seme di tante varietà allora da questo punto di vista l'uso delle popolazioni evolutive che gradualmente si adattano perfettamente al tuo territorio siccome c'è una relazione tra essere bene adattati e produzione io mi aspetto che nel corso del tempo ci sono dati scientifici che dimostrano che la produzione di queste popolazioni evolutive di miscuglia aumenta nel corso del tempo certo se poi uno lo coltiva per due anni poi smette poi ricompre insieme dall'altra parte eccetera però questi due agricoltori siciliano e toscano che non hanno mai smesso non hanno mai smesso la popolazione lucinaria mi sembra che il il siciliano produce dai 40 ai 45 quintali per ettaro quindi il gap con l'agricoltura industriale con le produzioni dell'agricoltura industriale se lei considera poi tutto lo scarto che c'è è modesto ed è destinato a ridursi con il tempo tenga presente che noi oggi coltiviamo che la roba che dà da mangiare al mondo ha una lunghissima storia di selezione dietro la la scienza delle popolazioni evolutive dei miscugli è vero che è vecchia di 100 anni però fino a pochi anni fa era contrastata dalle leggi sui semi cioè tutta questa roba era illegale per cui l'utilizzazione pratica dei miscugli delle popolazioni evolutive è tanto recente che non ha ancora espresso tutto il suo potenziale grazie grazie salvatore allora mi aggancio anch'io a una domanda a riguardo nel senso che noi siamo all'interno del collettivo tutti quanti i piccoli agricoltori appunto come diceva Isabella e anno dopo anno stiamo vedendo come i cambiamenti climatici avvengano sempre più velocemente sempre più e anche repentini e irruenti anche dalle grandinate un anno di sicilità un anno di insomma se ne vedo tutti i colori io voglio domandarti Salvatore quanto velocemente secondo te può evolvere una pianta un miscuglio evolutivo e sei in grado di evolvere tanto velocemente quanto saranno i cambiamenti climatici una domanda molto da Nostradamus però mi viene da parte nel senso che altre persone hai a che fare con questo tipo di genetica con questo tipo di miscuglio evolutivo quindi capire quanto velocemente se le piante sono in grado di affrontare un cambiamento veloce tanto quanto il cambiamento che stiamo vivendo appunto e notando nel clima sì certo guarda il paese dove le popolazioni evolutive hanno avuto il maggiore successo è l'Iran un paese in cui la seccità è tremenda e lì fondamentalmente le popolazioni evolutive sono arrivate nel 2000 quella di Ordo nel 2009 poi loro ne hanno fatta una loro di fumento l'anno successivo ci sono delle province in cui tu guidi per chilometri e chilometri sono soltanto popolazioni evolutive gli agricoltori dicono che quelli che coltivano popolazioni evolutive riescono a raccogliere tutti gli anni qualche cosa mentre quelli che coltivano ancora varietà moderne negli anni particolarmente con sicilità molto severa non raccolgono quasi nulla per cui tornando alla tua domanda dal punto di vista teorico sono due gli elementi che determinano la velocità dell'adattamento uno è la diversità che esiste nella popolazione di partenza per questo noi abbiamo fatto queste popolazioni con questi grandi numeri perché io sono andato un po' di corsa ma la prima l'abbiamo mandata in Giordania appunto in Iran in Algeria dove ancora viene coltivata in Giordania viene ancora coltivata e in Eritrea con l'Eritrea noi abbiamo perso i contatti perché lì il presidente è andato fuori da Marto e in Siria dove è successo quello che è successo però nei paesi dei cinque paesi nei tre nei quali non ci sono stati problemi politici o di guerra le popolazioni evolutive vengono ancora coltivate noi siamo stati in Giordania a dicembre dell'anno scorso una delle nostre studentesse ha difeso la testa di dottorato sulle popolazioni evolutive quindi e l'altro elemento è quello della intensità della pressione di selezione e qui c'è un lungo discorso da fare perché secondo me l'ideale la gestione ideale delle popolazioni evolutive e dei miscugli non può essere che comunitaria nel senso che la nostra visione è quello di ambienti dove c'è un certo grado di similarità tra 10 15 20 30 agricoltori i quali tutti coltivano la popolazione evolutiva a turno qualcuno si prende la responsabilità di produrre il seme per gli altri ma a questo punto loro agiscono come una comunità e non più individualmente per cui arriva la grandine a te tu recuperi il seme dall'altro perché grosso modo è adattato a quella zona non è che sei in Toscana e tu vai a prendere in Sicilia o tu vai a prendere in Piemonte te lo prendi da qualcuno che sta a 5 km da te però e questo ti assicuro che in questo momento il creare queste comunità che gestiscono come in modo comunitario una popolazione evolutiva è la difficoltà maggiore che noi stiamo incontrando perché qui lo come diceva quel famoso qui lo dico e qui lo nego ma noi scopriamo che tutti noi fondamentalmente abbiamo un piccolo gene che si chiama il gene della Monsanto che quando abbiamo una cosa bella cerchiamo di tenercela per noi è vero che in molte comunità questo non è vero già si scambiano semi eccetera però ecco se noi riusciamo a fabbricare a costruire queste comunità che poi nel caso per esempio dei frumenti per tornare alla domanda di Isabella nel caso del frumento si dotano della loro mititrebbia dedicata della loro seminatrice dedicata del loro forno del loro piccolo pastificio tu chiudi il cerchio e ti assicuro che quelli che l'hanno fatto a questo punto hanno un reddito che a quel punto è la comunità il reddito della comunità e in questo modo riesce a sopportare anche tutte queste questi eventi estremi che sono difficili da sopportare a livello individuale ovviamente per arrivare a questo ci sarebbe bisogno di sono i sogni di un'ottantenne eh sì un gran lavoro sociale oltre che agronomico ecco eh certo certo ma guarda io mi sono trovato con estremo piacere a parlare delle popolazioni evolutive di fronte a gruppi di persone tra cui c'erano dei sociologi i quali mi hanno detto ma lei sta parlando di popolazioni umane non di popolazioni vegetali tant'è vero che nella letteratura scientifica che riguarda le popolazioni evolutive miscugli i termini che si usano sono competizione e collaborazione le piante fanno questo e cercano di insegnarcelo ma noi non ascoltiamo ultima domanda al volo almeno da parte mia poi passiamo anche a Francesco se ci sono altre visto che noi siamo tutti quanti comunque articoltori sarebbe interessante poi come si vedeva prima sui fagioli sui pomodori sulle zucchine e riuscire a fare un lavoro di questo tipo anche sugli ortaggi che spesso come articoltori ci troviamo appunto a dover attestare semi magari di vite e sementiere che lavorano anche in biologico ma che ti vendono la varietà per la varietà Y quindi portare questo poi è un altro stadio diciamo che sono appunto gli ortaggi se ha qualche contatto magari se ha qualche contatto magari da da passarci per poter queste persone questi contadini che coltivano queste popolazioni sono tutta tutta gente che scambia i semi regala i semi quello delle zucchine è una cosa abbastanza interessante un po' riferita anche a quello che diceva prima Isabella perché quella cassetta quella foto che vi ho fatto vedere quella in realtà è una cassetta in un negozio cioè quel contadino biologico porta nel suo negozio che sta lungo l'Adriatica nel suo punto di vendita cassette con zucchine tutte diverse e i suoi clienti non finiscono mai di ringraziarlo perché per la prima volta in vita loro possono scegliere la zucchina della forma della lunghezza delle dimensioni che loro desiderano per una certa ricetta per cui queste sono piccole esperienze che dimostrano che di biodiversità si può vivere mi sentite ragazzi volevo fare un piccolo intervento sì sì sentiamo vale vai io avevo una domanda che è abbastanza tecnica magari poi vede Salvatore rispondermi subito che io sono l'unico tra l'altro che non ha un'azienda quindi sto sperimentando a livello proprio di autoproduzione o piccola comunità e che si collega anche con l'intervento di Enrico che sui cambiamenti climatici repentini ho iniziato a sperimentare con proprio 20-30 metri quadri di frumento popolazioni evolutive ma già tra l'anno scorso e quest'anno ci sono state condizioni climatiche totalmente differenti l'anno scorso una super siccità e quest'anno invece è una primavera molto di piogge molto abbondanti allora lì volevo fare una domanda tecnica cioè in quel caso lì con le popolazioni evolutive conviene sempre mescolare anche i semi di stagioni passate oppure il lavoro che si fa proprio anno dopo anno poi dico già l'altra domanda così poi vede congratulazioni hai capito tutto ma infatti noi consigliamo sempre noi consigliamo sempre non seminate mai tutto il seme che avete raccolto l'anno prima perché se poi succede una cosa come quello che diceva l'anno prima è stato in un certo modo perché il problema degli eventi estremi è che ti consentono di selezionare nel tuo campo quest'anno le piante resistenti a quell'evento estremo ma quelle piante potrebbero nel loro complesso essere talmente simili che poi se tu semini soltanto quelle e l'anno dopo c'è un evento completamente diverso quelle potrebbero non avere la capacità di rispondere però se tu quelle le mescoli con quelle dell'anno prima tenendo di sempre da parte un po' di seme cioè non seminare mai tutto perché se tu hai una serie di eventi estremi e soprattutto ecco quello che mi preoccupava nella tua domanda era il piccolo appezzamento perché ovviamente più roba semini più piante più piante diverse hai maggiore la probabilità che qualcuno come diceva quella famosa canzone che qualcuno ce la fa infatti immaginavo un po' questa cosa grazie della conferma l'altra era una considerazione che ha iniziato già a formarsi nella mia testa dopo l'incontro di sabato scorso sempre su questo argomento che a prescindere dalla particolarità dell'argomento quindi OGM eccetera eccetera mi sembra che già col collettivo nell'esperienza che stiamo facendo col collettivo di formazione e divulgazione si stia mettendo in discussione non tanto una tecnica particolare rispetto all'altra ma proprio il modo in cui la nostra società in questo momento è strutturata cioè il capitalismo e un po' l'egoismo quindi è venuto fuori anche con l'ultima risposta che ha dato lei Enrico per cui la domanda che mi faccio continuamente e che butto lì sul piatto è quella ma sarà poi più facile modificare una tecnica agronomica oppure riuscire veramente a cambiare questa società partendo da il cliente che dovrà imparare e accettare un modo diverso di acquistare e il produttore che dovrà uscire un po' dal riprodurre ogni anno le stesse cose e diventare un po' più versatile come tutto insomma il movimento che stiamo a cui stiamo contribuendo a noi del market garden questa agricoltura rigenerativa esattamente questo sono due visioni della vita della società completamente diversa quello che noi diciamo noi i nostri le nostre platee preferite in questo momento sono i consumatori perché noi diciamo guarda che alla fine nel mondo capitalistico quello che domina è la regge della domanda dell'offerta la domanda siete voi quando voi comprate le ciliegie a Natale o gli ananas o i mango o i supermercati non andate per il supermercato andate a fare la spesa dei contadini è una grande sfida eh lo so lo so però in un paese guarda per concludere in un paese come l'Italia se tu pensi che noi stiamo cercando con un altro gruppo simile al vostro di recuperare dei terreni in zona Milano Sud Abbazia di Caravalle con il sogno un giorno di vendere del pane sul sagrato del Duomo di Milano con un cartellino che dice questo pane viene da un grano coltivato a 7 km da qui nella primissima periferia di Roma c'è c'è una una grossa azienda a Fiano Romano quindi voglio dire a 20 chilometri da Roma che sta coltivando popolazioni evolutive dei fornali di Roma che li stanno facendo voglio dire anche nelle grandi città è possibile introdurre utilizzando l'immediata periferia delle grandi a Bologna c'è la cooperativa Arvaia che sta applicando voglio dire anziché andare al supermercato in direzione dell'aeroporto fondamentalmente sono gli stessi chilometri tu vai Arvaia quindi alla fine sono le scelte dei consumatori tu hai perfettamente ragione grazie farei un'ultima domanda anch'io visto che l'ho posta comunque anche al professor Squartini appunto volevo chiederle se secondo lei è fondato che abbiamo così tanta paura di convivere con gli OGM quando già diciamo conviviamo con gli ibridi e quindi adottiamo diciamo tutte le tecniche possibili per metterci via il seme senza appunto mescolarlo geneticamente a questi ibridi quindi sì volevo chiederle se può tranquillizzare oppure se può impaurire ulteriormente insomma con la sua tesi quelli che hanno questa preoccupazione perché ecco volevo saperne qualcosa di più ecco guardi rispondo anche qui con un aneddoto voi sicuramente conoscete Vandana Shiva beh io soprattutto negli anni in cui ho passato in India ovviamente andavo da lei nel suo villaggio a fare lezione e in una di quelle occasioni credo fosse una delle prime volte lei mi disse senti non aprire le bocca quindi vedete se qualche volta ci riesco aspetta vedi un po' la reazione dei contadini e poi eventualmente mi piacerebbe che gli spiegassi un po' come si fanno gli ibridi come è fatta una piatta di granturco soprattutto la parte femminile e la parte maschile queste cose qui perché secondo me dice questi non lo sanno beh Metoli è uno di questi agricoltori me lo ricordo ancora dove vengono ancora le foto un bellissimo turbante tutte le volte che usava il termine ibrido era accompagnato dal termine maledettissimo ripetuto 4-5-6 volte poi quando finalmente Vandana Shiva mi ha dato il segnale per cominciare a parlare ho cominciato a parlare appunto della pianta di granturco come è fatta la parte maschile e la femminile poi a un certo punto mi sono interrotto e guardando questo coltadino indiano gli ho detto scusi lei perché tutte le volte che parlava di ibridi usava il termine maledettissimi ah certo perché se io coltivo un ibrido poi raccolgo le pannocchie le risiemi e vengono fuori piante tutte diverse dico le posso fare una domanda personale sì certo lei è sposato sì figli sì quanti dodici tutti uguali no tutti diversi allora lei è un maledettissimo ibrido e lui si rimane quello che sto cercando di dirle è che mentre gli OGM rappresenta solo un prodotto assolutamente uniforme che è totalmente nelle mani di chi gliel'ha venduto perché spesso volentieri li ricontrano insieme eccetera l'ibrido i difetti di cui l'ibrido viene accusato in realtà sono se lei ci pensa bene un'enorme opportunità quella cassetta di zucchine la popolazione evolutiva di zucchine che l'ho fatto vedere viene da una mescolanza di undici ibridi commerciali che un istituto coltivava per conto di una vita sementiera e anziché distruggere l'esperimento lui alla fine la raccolta siccome le zucchine come il canturco sono piante che si incrociano in tutti i modi possibili lui ha raccolto tutte le zucche mescolate insieme e veniva fuori cioè al limite uno con gli ibridi può andare al mercato comprare 25 kg di un ibrido 25 kg di un altro mescolare il seme metterlo nel campo lasciare che le piante si incrociano si fa una popolazione evolutiva di canturco fantastica che diventa soltanto la sua con gli OGM questo non lo si può fare per cui gli OGM rappresentano per me l'espressione più raffinata del monopolio sementiero ma scusi mentre gli ibridi rappresentano la stessa cosa però sono hanno questo tallone di Achille nel senso che io se compro il seme e poi me lo risemino cosa che con alcuni ibridi è possibile io in realtà trasformo quello che è un problema in un'opportunità cioè tutta quella diversità che si origina riseminando per il secondo anno un ibrido mi dà la possibilità per esempio di fare la selezione ma perché dice che con gli OGM sarebbe diverso non si può fare perché se lei risemina l'OGM ottiene esattamente la stessa è una delle leggi della genetica gli OGM praticamente se lei pensa a quelle coppie di cromosomi in un ibrido i due cromosomi di una coppia hanno tutti i geni diversi tra di loro in un OGM sono tutti uguali per cui se lei lo risemina è sempre esattamente la stessa cosa e quindi non le offre nessuna opportunità al massimo quel gene si può perdere o si può incrociare con altre però l'ibrido di per sé è il punto di partenza di tutti i programmi di miglioramento genetico tradizionali soltanto che a noi è stato fatto credere che siccome appunto la seconda generazione quella uniformità si perde e ci è stato siamo stati indottrinati sul fatto che la maggiore produzione era legata a quella uniformità questo ci hanno obbligato a ricomprare il semi tutti gli anni ma se lei pensa che fino a quando non c'erano gli ibridi produzioni simili si ottenevano c'era un professore mi ricordo negli Stati Uniti che ci ha costruito la sua carriera sostenendo che popolazioni fatte di piante diverse possono arrivare a dare produzioni simili a quelle degli ibridi però a questo punto la differenza è che il semi nelle mani del contadino quindi ritorniamo sempre al solito problema parliamo di un di un agricoltura in cui uno possiede è proprietario dei semi e te li vende e tu li coltivi e tu gli anni li devi ricomprare o di un'agricoltura che metta a disposizione dei contadini un mezzo i semi che lui poi si può riprodurre e quindi rendere il contadino indipendente per questo dicevo prima la domanda di Valentino che sono due visioni del mondo completamente diverse l'una è rappresentata appunto da UGM e TEA e l'altra è rappresentata per esempio da miscuglie e popolazioni adultive io mi allaccio velocemente a questa cosa qua perché a volte penso noi che applichiamo un'agricoltura biologica comunque in un certo senso dopo sono scelte ma credo che la maggior parte degli agricoltori che ci stanno ascoltando adesso che fanno biologico comunque usano dei prodotti fitosanitari consentiti nel biologico e a volte mi chiedo tante volte questi prodotti fitosanitari sono nelle mani di queste aziende che noi praticamente critichiamo mi viene in mente ad esempio lo spinosad della Bayer che comunque Bayer ha assorbito la Monsanto ci sono tutti questi collegamenti poi che alla fine nel bene o nel male noi comunque andiamo sempre comunque a finanziarli hanno talmente una rete talmente capillare nella produzione sia di semi che di prodotti che anche se noi lo facciamo in buona fede diciamo facciamo un biologico fatto bene ci incastriamo lo stesso dentro è proprio quello che dicevo prima perché il punto è la diversità cioè anche se tu stai in biologico e coltivi varietà uniformi perché hai comprato il seme in deroga poi sei costretto ad usare quel minimo set di prodotti che è consentito nel biologico quello che i miscugli e le popolazioni evolutive ti consentono di fare è di utilizzare la diversità per sé come difesa se tu vedi questi campi in cui praticamente le infestanti non si vedono a quel punto non c'hai il problema di scegliere quel particolare prodotto che è consentito in biologico non hai bisogno di niente cioè è quel complesso di piante diverse che si difende da solo l'insetto che entra in un campo dove le piante sono tutte diverse le une dalle altre si deve andare a cercare la pianta suscettibile eventualmente la trova e questo è il nostro vantaggio perché a quel punto lui non ha bisogno di volgersi però i danni che provoca sono talmente risori che tu non c'hai bisogno nemmeno di andarti a cercare quel certo prodotto prodotto messo sul mercato da quella grande corporazione della quale tu non volessi mai comprare i prodotti cioè la diversità vista come difesa rispetto ai nemici contro i quali normalmente si combatte con la chimica più o meno più o meno virtuosa questa sarebbe la forza professore posso chiederle un'ultima cosa al volo chi è che mi ha chiamato professore io o dottore o no 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 perché allora ti rubo altri due minuti e ti racconto la storia no no è bello perché ognuno dice posso farti l'ultima tu mi fai l'ultima domanda però visto che mi hai chiamato professore adesso ti devi beccare la storia del pappagallo c'è il tizio che va a comprare il pappagallo e ne offro uno per 5.000 euro lui lo trova molto costoso però gli dicono questo sa tutta la rivina commedia a memoria te l'ho fatto breve poi gli ne offrono un secondo che in realtà costa 10.000 euro perché sa equazioni complesse trigonometria e alla fine lui dice quello lì per esempio quello costa 50.000 euro come 50.000 euro quello 5.000 la rivina commedia quell'altro 10.000 le equazioni complesse e quello dice ma che sa fare quello lì che costa 50.000 euro nessuno lo sa ma gli altri due lo chiamano o professore dimmi Andrea le chiedevo un accenno sulla sterilità degli ibridi cioè ci sono stati degli ibridi per caso le chiedo se è un mio fraintendimento c'è stato un tentativo d'altra parte devi pensare che non è pensabile fare degli ibridi sterili in colture in cui il prodotto è il seme cioè voglio dire se io vado a comprare un ibridi di mais che è sterile che cosa raccoglo le foglie? certo per cui al massimo ed è stata quella famosa tecnica del cosiddetto terminator gin che però poi ha fatto talmente talmente scandalo anche nel mondo dell'industria di cui non ci sono seguito per cui che io sappia non esistono sul mercato Francesco mi può correggere è stato un tentativo che però non è stato è per quello che hanno inventato i brevetti eh? beh certo è per quello che hanno inventato i brevetti perché in qualche modo dovevano risolvere questa faccenda grazie per esempio in questo momento non mi ricordo chi l'aveva accennato non esistono di fatto ibridi di fumento mentre esiste qualche cosa nel caso del riso infatti noi abbiamo un lavoro anche in Iran sul riso in cui stiamo cercando di introdurre questa idea di biscugli perché lì il governo vuole imporre ai contadini di coltivare ibridi di riso che secondo i contadini in realtà sono un panoschifo quando arrivano in cucina e quindi loro preferiscono considerare questa strategia di mescolare vecchie varietà in modo che mantengono il sapore però allo stesso tempo hanno il vantaggio di questa diversità per cui offre la diversità di per sé offre qualche grado di difesa rispetto sia ai cambiamenti climatici per un anno all'altro ma anche insetti malattie eccetera nel riso sono particolarmente devastanti soprattutto nel mondo idologico grazie ancora benissimo Salvatore penso che la panoramica è stata ampia e molto variegata quindi direi che possiamo parlare e passare la parola a Francesco che ci porterà tutto l'aspetto più legale giuridico amministrativo di cosa sta accadendo anche dal punto di vista di normative appunto legate all'Etea grazie Enrico e di nuovo grazie a tutti per farmi essere qui oggi mi fa molto piacere ho imparato molto da Salvatore come ogni volta che si può ascoltarlo e quindi grazie anche a te Salvatore io cercherò di essere breve perché secondo me abbiamo sviscerato molto bene tutto l'argomento fino adesso e forse quello di cui possiamo cominciare a parlare e magari il punto in cui siamo arrivati con la liberalizzazione o meno di questi organismi geneticamente modificati 2.0 chiamiamoli così in Europa e qual è lo scenario che ci può aspettare penso che anche raccontando questa storia sarà possibile anche magari affrontare alcune delle domande che sono state poste da altre angolature che secondo me diventa sempre una cosa interessante e allora abbiamo avuto il 5 luglio scorso una proposta della Commissione Europea dello specifico della Direzione Generale Salute di scrivere un'altra serie di norme di regole per regolare queste nuove biotecnologie di cui abbiamo parlato questa volta e di cui ho seguito l'incontro di sabato scorso perché il punto era e qui forse vado un po' lentamente progressivamente distanziandomi dalla visione che era stata proposta sabato scorso dal professore lo scenario precedente era che c'era già una regolamentazione per gli OGM era la direttiva 2001-18 che diceva che gli OGM e oltre a questo una regolamentazione sulla proprietà intellettuale che risale al 98 che diceva che gli OGM sono organismi geneticamente modificati ne dà una definizione e devono sottostare a fondamentalmente tre o quattro regole importanti la prima è la valutazione del rischio la seconda è la tracciabilità la terza è l'etichettatura per quanto riguarda i brevetti dovrebbe essere garantita la rintraccibilità dell'invenzione cioè nelle piante che vengono fuori dalla manipolazione genetica per essere brevettate dovrebbe essere possibile risalire al tratto brevettato e a come è stato ottenuto cosa succede? intanto che quest'ultima parte spesso e volentieri è coperta da segreto commerciale quindi la rintracciabilità di un tratto brevettato è spesso materia anche di di cause legali o comunque di difficoltà di risalire a questa informazione ma a parte questo queste tre precondizioni la tracciabilità la valutazione del rischio e l'etichettatura al consumatore hanno fondamentalmente tenuto fuori dal mercato europeo OGM per l'alimentazione umana di prima generazione fatto salvo sostanzialmente per un Monsanto un mais Monsanto che è coltivato prevalentemente in Spagna e un pochino in Portogallo comunque si tratta di quantità molto basse volevo tornare sui numeri che dava Salvatore all'inizio cioè abbiamo meno di 200 milioni di ettari nel mondo di OGM di prima generazione coltivati su una superficie totale agricola di 5 miliardi di ettari quindi stiamo parlando di una quota inferiore al 5% della superficie agricola mondiale c'è stata quindi tanta retorica sugli OGM sulla loro capacità secondo me di spammare il mondo piuttosto che risolvere dei problemi strutturali dell'agricoltura che poi nei numeri anche nei paesi non in questo caso l'Europa che ha messo come dire dei paletti ma anche nei paesi dove questa regolamentazione è molto più lassa facciamo l'esempio del Brasile e degli Stati Uniti ha avuto una grande diffusione ma è rimasta lì non c'è stata una grande varietà di piante OGM coltivate nel mondo a parte quelle 4 che diceva Salvatore e così via quindi sostanzialmente non hanno avuto un enorme diffusione noi li importiamo per mangimi che diamo nella maggior parte agli allevamenti industriali e questo è l'uso che noi facciamo in Italia degli OGM oltre che negli alimenti possono essere presenti come diceva il professore sabato scorso fino allo 0,9% delle componenti totali questa regolamentazione fondamentalmente è accompagnata nella legislazione europea dalla possibilità per un paese di fare quello che si chiama opt out cioè io non ci sto e metto una moratoria cioè nel mio paese entro i miei confini nonostante sia possibile rilasciare OGM in Europa al netto di valutazione del rischio tracciabilità ed etichettatura quindi non è che è vietato ci sono queste tre condizioni un paese poteva per legge anche vietare sul proprio territorio era libero di farlo la coltivazione degli OGM quello che è successo è stato che dal 2001 che è stata pubblicata questa direttiva ed è diventata legge c'è stato poi lentamente ma progressivamente anche il passaggio a nuove tecniche di breeding o nuove biotecnologie come le NGT come queste New Genomic Techniques di cui abbiamo parlato diffusamente quindi sul cui meccanismo non mi soffermo molto siccome queste nuove tecniche di manipolazione del genoma hanno come dire la peculiarità di o non inserire materiale proveniente da genetico nella cellula ospite proveniente da delle specie differenti ma soltanto dalla stessa specie o addirittura neanche quello soltanto come fanno le più avanzate di queste biotecnologie CRISPR è quella che ci raccontava il professore la volta scorsa inventata da due biotecnologhe che hanno vinto il premio Nobel un paio di anni fa addirittura in certi casi neanche inserire come dire del materiale genetico proveniente da specie diverse ma semplicemente tagliare parti di genoma che non ci interessano diciamo così e far sì che il DNA si ripari da solo in quei punti e che quindi escluda quella parte di genoma quella sequenza del genoma che esprime una certa caratteristica per esempio in troppo glutine la produzione del glutine in certi cereali noi la tagliamo via con le nostre forbici molecolari questo è quello che fa fondamentalmente il CRISPR e così avremo un pane più libero dal glutine oltre a tutte diciamo questa è una grossa semplificazione ma come una grossa semplificazione parlare di forbici molecolari parlare di puntualità e precisione della modifica perché come diceva Salvatore ci sono centinaia se non migliaia di modificazioni parallele e imprevedibili che si possono verificare con il rischio della cromotripsi quindi dell'innesco della morte cellulare quindi anche diciamo delle dinamiche che portano poi a cose molto peggiori e quindi il problema tecnico da questo punto di vista è stato molto accantonato purtroppo e qui forse tra un po' parleremo anche del ruolo della scienza di quale scienza abbiamo oggi nelle classi dominanti e quale scienza produce poi le politiche pubbliche o le supporta e quale scienza invece per esempio quella di Salvatore viene negletta e ha una grossa fatica di affermarsi quando invece può essere una importantissima risposta per hackerare il sistema diciamo dagli ibridi in poi e trasformarlo verso un sistema più comunitario di gestione delle risorse genetiche e anche rivolto al bene comune quindi la maggior parte di queste di queste problematiche è stata accantonata o quantomeno nella legislazione nella proposta di legislazione della Commissione Europea non se ne trova traccia perché fondamentalmente siccome è partita una narrazione quella che diceva Salvatore c'è un documento della International Seed Federation che non è altro che l'internazionale delle ditte sementiere globali che diceva fondamentalmente a tutti i governi a tutte le istituzioni di ricerca di impegnarsi nel divulgare che i nuovi OGM non erano OGM ma erano qualcosa di diverso e quindi andavano normati separatamente rispetto alle regole sugli OGM si rivolgeva in particolar modo all'Europa perché l'Europa ha questa legge questa direttiva del 2001 di cui parlavamo poco fa che impone queste tre prerequisiti rispetto del principio di precauzione cioè la tracciabilità l'etichettatura e la valutazione del rischio a monte e quindi fondamentalmente l'Unione Europea diceva ha cercato in un primo momento di come dire di di non trattare questi organismi come OGM naturalmente i movimenti contadini con i quali Crocevia lavora da molto molto tempo si sono attivati hanno fatto una causa legale questo specifico la Confederazione Paysanne che voi probabilmente conoscerete anche per il fatto che recentemente ha saldato il suo lavoro con quello del Movimento per la Giustizia climatica in Francia facendo le occupazioni dei bacini idrici e di altre e partecipando ad altre azioni la Confederazione Paysanne ha detto interroghiamo il nostro Consiglio di Stato per sapere se veramente questi nuovi OGM non sono OGM il Consiglio di Stato ha rinviato alla Corte di Giustizia europea nel 2018 la Corte di Giustizia europea ha messo una sentenza molto come dire dirompente nella quale diceva siccome presentano molte delle caratteristiche dei OGM precedenti questi organismi vanno normati devono sottostare alle stesse regole che ci sono adesso non c'è bisogno di cambiare regole queste sono le norme in questo momento che sono in vigore alle quali possono sottostare e quindi questo ha frenato di molto la deregolamentazione di questi organismi finché l'Unione Europea sotto pressione da parte di i nomi li conosciamo insomma sono le quattro più grandi imprese sementiere e biotecnologiche e anche agrochimiche che sono Bayer, Monsanto Basf, Singenta e Corteva ma anche di importanti centri di ricerca che stavano lavorando su queste biotecnologie ma anche ditte sementiere più piccole o centri di ricerca più piccoli e meno importanti basti solo pensare al nostro CREA in Italia ma anche le organizzazioni di categoria riunite nel Copaco Geca che è l'organizzazione ombrello delle varie col diretti cia con pagricoltura tutte queste realtà hanno fatto una grossa pressione sull'Unione Europea per dire beh la sentenza dice questo ma non dice ma diciamo ma nei tuoi poteri c'è il potere di fare legislazione quindi tu puoi decidere di fare una nuova legislazione che solo su queste tecnologie è escludere dalla regolamentazione precedente del 2001 perché è troppo restrittiva e non permette fornisce troppe informazioni ai consumatori fornisce troppe mette troppi oneri sulle spalle dei produttori dei breeders come dire dei biotecnologi e delle aziende che poi commercializzano quelle piante e quindi fondamentalmente ha impedito fino ad oggi di commercializzare su larga scala gli OGM per il consumo umano e quindi la Commissione Europea diciamo ha fatto proprio questo ha commissionato uno studio all'EFSA all'Agenzia per la Sicurezza Alimentare uno studio naturalmente contestato dalla società civile perché prendeva in esame soltanto diciamo in gran parte le posizioni delle imprese e in piccola parte quelle dei piccoli agricoltori e delle ONG e sostanzialmente concludeva che c'era bisogno proprio di regolare diversamente queste nuove biotecnologie per poterle mettere sul mercato allora il 5 luglio scorso ed eccoci qui la Digisante che sarebbe la Direzione Generale Salute l'area Sanità Salute e Sicurezza Alimentare della Commissione Europea ha scritto questa proposta l'ha presentata questa direttrice che si chiama Sandra Gallina ed è un'italiana e fondamentalmente cosa dice questa nuova proposta i prodotti delle nuove tecniche genomiche saranno regolamentati in questo modo creiamo due categorie la prima categoria è fatta da tutti quei prodotti per i quali vengono fatte meno di 20 modifiche genetiche per crearli della lunghezza di massimo 20 nucleotidi cioè dei mattoncini che compongono il DNA una cifra che non dico io ma questo European Network for Science for Environmental and Social Responsibility che insomma si chiama ENSER con due S ed è un network un gruppo di scienziati europei che si occupa nello specifico di questo di costruire una nazione come dire alternativa a quella dominante sulle nuove biotecnologie loro per esempio hanno puntato molto il dito sul fatto che questi siano numeri completamente inventati che non hanno base nella letteratura scientifica semplicemente sono stati messi là come un cesello fra un muro fra i nuovi OGM di categoria 1 e i nuovi OGM di categoria 2 quindi i nuovi OGM di categoria 1 saranno esentati da tracciabilità etichettature e valutazione del rischio saranno liberi di basterà una richiesta di approvazione per la messa in commercio come per tutti una notifica diciamo come per tutti le sementi e le varietà vegetali e potranno essere commercializzati se questo regolamento viene approvato dagli stati membri e dal Parlamento europeo quelle di categoria 2 avranno una normativa un po' più simile alla vecchia quindi un pochino più cautelativa tuttavia non ci sarà la richiesta di etichettatura finale se non un'etichettatura promozionale quindi potranno dire questo GM è buono perché l'abbiamo fatto è uno GM ma resiste alla siccità ma ha consumato meno acqua di quella che avrebbe consumato un prodotto normale e quindi può essere offerto al consumatore come un plus non come semplicemente un dato gli si può mettere quindi una un'accezione positiva anche in questo caso comunque le procedure di rivalutazione del rischio e tracciabilità saranno un po' più lasse un po' più deboli rispetto alle precedenti e quindi sarà più facile commercializzare anche questi NGT di seconda categoria mettiamo così che hanno una serie che presentano una serie di mutazioni che sono state costruite mutando più di 20 punti nel genoma e per più per dimensioni più larghe per spazi più larghi dei 20 nucleotidi delle altre e quindi questa sarà fondamentalmente la base della regolamentazione cosa significa a ricasco cosa può capitare al di là di sicurezza alimentare salute eccetera che non sono argomenti miei quindi non mi sento in grado di entrarci profondamente se non per sottoscrivere tutto quello che ha detto Salvatore prima perché sono cose che mi è capitato di leggere di cui mi è capitato di parlare con persone esperte come Salvatore noi ci siamo concentrati come crocevia sullo studiare la parte economico legale diciamo di tutto questo cioè quale sarà l'impatto di questo grande cambiamento per l'Europa perché si tratta credetemi di un grossissimo cambiamento sarà il seguente da un lato avremo la possibilità non avremo più la possibilità di tracciare questi organismi perché la tracciabilità non sarà richiesta questo significa che c'è la possibilità di quella biocontaminazione di cui si parlava prima nei campi di agricoltori che non seminano il GM sarà possibile che arrivi del pollineo GM le misure di coesistenza sono demandate ai paesi ai singoli paesi nella proposta della commissione europea non c'è nulla quindi significa che alcuni paesi potranno metterne altri paesi potranno non metterne l'intensità di queste misure di coesistenza potrà essere diversa in tutta Europa un governo come il nostro non mi lascia pensare che ci possa essere una serie lavoro sulla coesistenza la struttura geografica del nostro paese mi lascia pensare che in molte delle nostre regioni penso alla Liguria penso a regioni magari più piccole più strette dove per esempio il vigneto GM potrebbe portare del genoma manipolato nei vigneti nonno GM piuttosto che altre culture sarà molto difficile fare una impostare delle misure di coesistenza e poi queste misure soprattutto chi le paga nel senso saranno sulle spalle degli agricoltori che dovranno difendersi da queste problematiche o saranno a carico di quelli che lo pianteranno o ancora saranno a carico delle imprese oppure a carico del pubblico tutto questo ancora non lo sappiamo certamente è un tema che senza una proposta scritta risulta preoccupante da un lato perché pensiamo a chi ha fatto il biologico e rischia di perdere completamente la certificazione per una per una biocontaminazione da semente OGM perché nel biologico sapete sono vietati gli OGM totalmente quindi non è soltanto come se un ibrido arriva appunto in un campo ad inquinare come dire un campo diverso da quello dove è stato seminato ma qui siamo nel come dire sul crinale del buttare a gambe all'aria un settore che in Italia vale quasi il 20% della superficie agricola e quello che ha più crescita di tutti non voglio entrare nelle dinamiche del biologico perché comunque molta parte del biologico è un biologico industriale che fa esportazione non ha quella dimensione comunitaria e qualitativa che diceva Salvatore comunque sia sta dietro una certificazione che ne vieta l'uso di OGM e di prodotti chimici quindi un minimo di sicurezza in più sempre la fornisce questo non sarà più possibile se non ci saranno delle chiarissime misure di coesistenza impostate e di come dire anche la possibilità di avere i danni pagati chi pagherà i danni di chi viene poi inquinato anche perché il polline può viaggiare attraverso gli impollinatori o gli agenti atmosferici ma anche sui camion di chi percorre le stesse strade di campagna per portare un prodotto alla molitura piuttosto che alla trasformazione e quindi chiaramente hai lo stesso tipo di rischi anche se dal camion crolla cade una parte del raccolto quindi le misure di coesistenza secondo noi sono abbastanza un sogno ad occhi aperti non è molto facile che se ne abbiano di sufficienti o che ne esistano di sufficienti in più a tutto questo si aggiunge scusatemi aggiungo che nella proposta europea per cercare di blandire l'agricoltura biologica nello specifico l'IFOAM che è l'organizzazione internazionale e poi anche europea del biologico hanno tentato di inserire una differenziazione una tracciabilità solo per le sementi quindi le sementi OGM saranno tracciabili se passa questa proposta che siano della prima o della seconda categoria questo vuol dire che l'agricoltore biologico può decidere di non comprarle mantenendo così in via del tutto teorica la possibilità di continuare a non coltivare OGM naturalmente essendo che a valle non c'è garantita nessuna possibilità di coesistenza in questo momento questa cosa qui potrebbe rimanere un'illusione e io spero ma dai comunicati che leggo e dalle voci che sento dal mondo del biologico che rimanga fermamente contrario alla deregolamentazione di questi organismi in questa maniera perché non c'è non c'è la sufficiente garanzia che i loro associati possano continuare a coltivare in biologico in assoluto e l'altra parte è tutto il temone dei brevetti che affrontavamo prima cioè qual è la differenza tra l'essere inquinati da un ibrido e l'essere inquinati da un OGM anche l'essere inquinati da un OGM significa che nel tuo campo si manifesta una pianta con un carattere brevettato che può essere reclamato dall'impresa che lo possiede il brevetto è qualcosa è una proprietà esclusiva del costitutore quindi nessun altro può avere in mano quel brevetto senza l'ok del costitutore questo rende appunto il seme monopolizzato e fa sì che chiunque manifesti nei suoi campi quella caratteristica che è stata brevettata per ottenere la pianta desiderata possa essere perseguibile per legge la Monsanto Police non è fantascienza ma è storia in Canada e negli Stati Uniti ne abbiamo avute diverse manifestazioni c'è persino una puntata di report che si chiama di vent'anni fa che si chiama l'insostenibile brevetto quindi le cose si sapevano già da molto tempo raccontava proprio di come in Canada molti agricoltori che non facevano OGM ma che venivano inquinati geneticamente dai pollini OGM dei campi dei vicini poi venivano denunciati dalla Monsanto che faceva dei prelievi dai loro campi e diceva ah tu hai seminato il mio seme nella mia pianta e non ne avevi il diritto perché per poterlo fare tu lo devi chiedere a me e così riportava in giudizio e molti di questi poi decidono anche di patteggiare perché poi c'è sempre l'eroe che arriva fino in fondo e riesce a vincere la causa ma quando devi investire migliaia di dollari per pagarti un avvocato contro le più grandi multinazionali del mondo magari ci pensi due volte e come dire o firmi un accordo con un'azienda e la risolvi così in maniera extra giudiziale oppure appunto patteggi e quindi questo è l'altro grande rischio cioè per noi in Europa abbiamo avuto non abbiamo grandi estensioni di terre con culture brevettate appunto solo perché la differenza fra la manipolazione genetica in laboratorio e il breeding convenzionale quello che raccontava Salvatore è proprio questa quindi il breeding convenzionale ottiene una varietà cioè una una serie di piante che hanno una caratteristica di essere dus si chiama durà santo cielo dus sta per distinte uniformi e stabili quindi hanno una una loro caratteristica molto che le rende capaci di essere distinte uniformi e stabili e le puoi come dire proteggere con una sorta di brevetto leggero che in Europa è molto diffuso e che si chiama Community Plant Variety Rights si chiamano cioè diritti di privative vegetali è il termine italiano privative vegetali vuol dire che quella pianta deve essere acquistata per essere utilizzata e per essere ripiantata ha bisogno di pagare delle royalties se però tu sei un piccolo agricoltore quindi produci diciamo meno di 92 tonnellate nel caso di alcuni dei cereali all'anno puoi ripiantarla gratis cioè te la puoi riseminare la pianta sotto privativa vegetale col brevetto questo è assolutamente impossibile inoltre sempre con la privativa diversamente dal brevetto scienziati e altri breeders possono accedere a quell'invenzione utilizzarla per fare altro breeding quindi per fare ulteriori ricerche senza dover pagare nessuna royalty senza quindi dover pagare chi ha costituito la varietà questa è la legge che c'è in Europa derivata da una convenzione anzi derivata diciamo da una convenzione che si chiama UPOV che è una convenzione firmata e costruita da alcuni stati europei nel 1961 promossa dalla Francia e poi aggiornata nel 78 e nel 91 che diciamo dispone questo sistema sui generis si chiama così quindi un sistema diverso dal brevetto industriale che è molto più duro e più restrittivo per le per le varietà vegetali invece in America in altri paesi in altri paesi dove la brevettazione industriale è stata estesa agli organismi viventi e alle piante cosa che in Europa non sarebbe possibile tutto questo è stato molto più come dire molto più facile sdoganare la biotecnologia biotecnologia che appunto essendo un processo inventivo viene denominato così se riesce a produrre dei dei prodotti che hanno una sorta di come si dice qui si dice ingegno invenzione e una capacità di applicazione industriale ecco che allora possono ricevere un brevetto che ha come dicevamo intanto una durata di 20 anni la privativa ne ha circa 25 però è completamente monopolio dell'inventore e quindi significa che se del germoplasma per accidente arriva nel tuo campo scusate sono tutta la strisce per il tramonto se del germoplasma brevettato arriva nel tuo campo una volta che anche i nuovi OGM saranno legali in Europa e non tracciati ecco che naturalmente c'è la possibilità di essere chiamati in giudizio in Italia per esempio la legge se viene chiamata in giudizio per queste faccende permette il sequestro del raccolto e anche il pagamento di multe a discrezione del giudice quindi comunque si tratta di perdite importanti per gli agricoltori e quindi abbiamo davanti a noi un potenziale problema molto grande questo della patentability cioè della possibilità di essere brevettati è un problema che nonostante sostengano la liberalizzazione delle NGT hanno anche le stesse organizzazioni agricole che vorrebbero la classica botte piena e moglie ubriaca con un detto piuttosto inquestionabile perché vorrebbero poter usufruire di questi semi ma non vorrebbero che avessero sopra il brevetto tuttavia un amico giornalista molto bravo che ha interrogato chi lavora per Euractiv che è una delle migliori testate europee che si occupano di politica europea e quindi in questo caso lui si occupa proprio della divisione agricoltura e della sezione agricoltura e ha interrogato l'European Patent Office che è l'ufficio brevetto europeo dicendogli ma scusate ma alla fine si brevettano o non si brevettano questi nuovi OGM e loro gli hanno detto ma per noi non cambia niente se è un processo di laboratorio che produce dei tratti che hanno queste caratteristiche l'invenzione l'inventività e l'applicazione industriale noi rilasciamo il brevetto quindi chiaramente loro dicono noi facciamo il nostro lavoro se cambia la legge ne permette e ne facilita la coltivazione senza tracciabilità senza etichettatura senza più valutazione del rischio senza più la possibilità di un paese di usare quello che dicevamo prima l'opt-out cioè la moratoria è chiaro che ci possiamo aspettare una crescita della brevettazione anche in Europa e quindi una crescita del potere di chi già detiene questo tipo di brevetti e una posizione di vantaggio sul mercato della presa sull'agricoltura da parte appunto di poche imprese multinazionali per dire abbiamo fatto un rapporto che abbiamo lanciato il 5 luglio stesso mi pare quando la commissione ha fatto la sua proposta dove abbiamo cercato di tirar fuori dei numeri perché poi appunto uno dice anche aiuto aiuto al lupo al lupo ma quali sono i numeri di questo problema quelli che abbiamo trovato noi interrogando un database di open access che raccoglie tutti i brevetti rilasciati per qualsiasi cosa nel mondo e che si può filtrare opportunamente per determinate categorie paesi eccetera lassi temporali eccetera ci ha restituito questa fotografia in Europa in questo momento dal 2000 dal 2000 ad oggi negli ultimi 23 anni sono state rilasciate sulle NGT circa 970 brevetti quindi quasi un migliaio 510 scusate sono state richieste 510 sono state rilasciate 460 sono pending viene detto quindi ancora in attesa di rilascio la grande maggioranza di questi sono stati rilasciati o comunque richiesti dal 2017 ad oggi quindi quando queste tecnologie cominciavano un po' la loro fase di maturazione perché sono nate diciamo la più recente del 2012 le altre sono di un pochino prima dal 2017 ad oggi c'è stato proprio un escalation se vedete i grafici salgono proprio incredibilmente e su questi mille diciamo facciamo così su questi 970 139 sono in mano alle prime quattro imprese multinazionali del mondo quindi multinazionali agrochimiche quindi le classiche quattro Bayer Monsanto Corteva Basf e Singenta ne manca sempre una e cosa è successo allora uno può dire beh in fondo sono soltanto poco più del 10% quindi di cosa ci preoccupiamo il problema anzi il tema interessante che mi piacerebbe introdurre prima di avviarci alla conclusione è proprio invece che la maggior parte di chi detiene gli altri brevetti sono centri di ricerca e istituti comunque internazionali penso al Broad Institute al Sangamo Bios Bioscience Institute insomma sono dei grossi centri di ricerca molto importanti che hanno grossi finanziamenti e ottimi ricercatori tra cui anche quelli che hanno inventato alcune di queste biotecnologie la maggior parte degli altri brevetti in mano questi tre o quattro centri di ricerca internazionali i quali hanno come dire stretto nel tempo soprattutto negli ultimi dieci anni accordi di licenza esclusiva con le quattro grandi imprese multinazionali e qui che dicevo di quale scienza parliamo quando parliamo di scienza degli OGM è una scienza che ha come dire nel suo DNA forse vorrei dire ma forse è improprio la necessità di rinterfacciarsi con l'industria agroalimentare o con il mondo delle grandi imprese per poter fare come dire rendere per far rendere al massimo le sue invenzioni quindi quando tu cominci con la testa a pensare a come puoi sviluppare qualcosa di nuovo lo fai pensando a chi lo puoi vendere tante volte e quando lo puoi vendere in licenza esclusiva perché anche questi processi sono brevettati a delle multinazionali come quelle che ti pagano moltissimi soldi perché vedono una potenzialità di sviluppo e privatizzazione dell'agricoltura futura è chiaro che anche i tuoi le tue correnti di ricerca i tuoi i tuoi studi vanno verso questo genere di lavori è quello che anche Salvatore poi diceva ma te l'hanno fatto ma se l'hanno fatto fare quando ha fatto degli esperimenti che andavano in tutt'altra direzione stupendo dei colleghi perché è così purtroppo i soldi sono i soldi pubblici sono sempre di meno se voi guardate dal definanziamento della ricerca pubblica è qualcosa di molto evidente che viene scritto perfino sui giornali ma i fondi da qualche parte devono arrivare è chiaro che le università peggiorano o i centri di ricerca peggiorano ma laddove funzionano da dove vengono i fondi vengono dalla possibilità di brevettare le innovazioni oppure direttamente dagli accordi con le imprese a monte si fanno accordi con le imprese per fare delle ricerche che possano essere applicate verso una certa applicazione industriale e quindi già dall'inizio la tua scienza ha come dire un obiettivo che non per forza è la sicurezza alimentare ma è invece trovare una tecnologia da brevettare da poter vendere e farci sopra un gran profitto perché solo in quel modo ti assicuri la continuità di ricercare e allora in questo percorso quando il fine ultimo non è appunto il bene comune ma è come dire la prossima innovazione da brevettare e il prossimo ciclo di profitto che riesco a fare è chiaro che tutte le prove che vanno a come dire tutte le prove contrarie rispetto a quello che io ho trovato lungo il mio percorso di ricerca le nascondo o non le evidenzio semplicemente il problema degli effetti come si dice off target cioè fuori bersaglio di CRISPR e di tutte le altre tecniche di manipolazione del genoma e viene come diceva Salvatore come faceva vedere per fortuna viene ancora abbastanza sottolineato da serie di ricercatori che fanno le loro analisi sugli studi degli altri o che studiano proprio questo tipo di argomenti ma la maggior parte di chi vuole mettere sul mercato prodotti o vuole che quella tecnica venga acquistata da qualcuno ti dice che che non ci sono problemi perché va a cercare gli effetti come dire indesiderati solo nella regione dove lui si aspettava che quel taglio sarebbe avvenuto ma se queste come abbiamo visto off target effects avvengono in regioni del genoma che sono anche molto distanti da quella che noi avevamo pensato di tagliare è chiaro che se non le andiamo a cercare non ci saranno nella nostra pubblicazione finale ed è questo il grande il grande problema che poi abbiamo con la qualità dei dati con cui abbiamo a che fare se la qualità non è affidabile allora dobbiamo si viene a dibattere politicamente della scienza su un terreno fideistico quindi io mi fido della scienza tu non ti fidi sei un oscurantista i tuoi scienziati sono pagati i tuoi scienziati sono dei frustrati e questo è il dibattito che abbiamo oggi sugli OGM non è un dibattito su come hai ottenuto quei dati e perché non ne hai ottenuti degli altri che sarebbe quello che poi fa fruttare come dire una produzione scientifica più sana è un dibattito totalmente ideologico che dire dall'altra parte c'è tutto un tentativo e forse se vado lungo Enrico dimmelo perché naturalmente ci sarebbe ci sono tante cose da dire ho rimodulato molto il racconto perché volevo agganciarmi un po' a quello che era uscito oltre all'Europa volevo alzare un po' lo sguardo su cosa succede anche nel mondo perché Crocevia lavora da non so mai più di 30 anni con i movimenti contadini di tutto il mondo dai 5 continenti riuniti in un collutato auto-organizzato per la soveranità alimentare questi contadini si sono detti noi abbiamo le pratiche abbiamo l'agroecologia la difendiamo molte delle cose che sono state dette oggi che fate anche voi stesse voi stessi nei vostri campi le fanno anche loro simili o diverse nei loro terreni in tutto il mondo si sono organizzati politicamente per dire dobbiamo arrivare da qualche parte perché questi altri stanno venendo a bussarci alla porta pensate al tentativo di introdurre massivamente gli OGM in Africa pensate al Sud America pensate all'Asia e quindi anche Vandana avrebbe qualcosa da raccontare su questo naturalmente però io mi troverò tra un paio tra 4 giorni 5 in India a parlare con alcuni di questi agricoltori che insieme andremo a questo simposio globale sui diritti degli agricoltori perché tutto un altro tentativo che è stato fatto appunto dai piccoli agricoltori è stato quello reclamiamo i nostri diritti nei livelli più alti della governance internazionale cioè gli stati non ci ascoltano i continenti meno che mai le regioni neanche andiamo all'ONU andiamo alla FAO la FAO era uno spazio politico non abitato abbastanza dai governi che se ne fregavano negli anni 90 negli anni 80 di che cosa succedeva fondamentalmente nella governance globale perché ognuno si faceva bene o male i fatti suoi per quanto avessimo già una globalizzazione economica imperante come dire le istituzioni politiche erano ancora molto fragili e nell'ambito della FAO i contadini ottengono la possibilità premendo premendo e premendo di avere un dialogo come dire come portatore di diritti quindi non come portatore di interessi quindi non un attore economico come gli altri ma un attore di diritti un attore con dei diritti scusate e lentamente progressivamente nel 2001 riescono a ottenere questo trattato mondiale sulle risorse genetiche vegetali quindi hai questo trattato dal nome impronunciabile che chiama ITPGRAFA che significa sostanzialmente trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali che ha al suo cuore il principio dei diritti degli agricoltori cioè il diritto degli agricoltori a gestire riprodurre scambiare e vendere le proprie sementi è un principio molto bello molto nobile disapplicato dalle leggi nazionali per quanto le leggi nazionali dovrebbero applicare questi grandi quadri regolatori che sono stati costruiti vent'anni fa ormai più di vent'anni fa e tradurli appunto nelle leggi nazionali poi viene fatto in una maniera come abbiamo visto piuttosto utilizzando queste come delle eccezioni e non come il cuore della legislazione quindi tu puoi usare una pianta protetta da privativa se sei un piccolo agricoltore per riseminartela ma non puoi fare più di questo mentre tutto il sistema intorno si muove basandosi sulle leggi commerciali quindi su appunto sulle privative sui brevetti eccetera eccetera e questo spazio dei diritti degli agricoltori costruito a livello internazionale però rimane l'unico grande presidio politico che abbiamo secondo me in questo momento sul quale è necessario continuare a dare battaglia per riuscire a dargli un'interpretazione sempre più ampia e sempre più restrittiva per le imprese invece le quali in questo momento se ne fregano molto tranquillamente di come i paesi stanno applicando quella normativa a parte l'India e la Norvegia che hanno due leggi particolarissime l'India per esempio non usa né le privative né i brevetti l'India dice io faccio una legge apposta per i diritti degli agricoltori che consente agli agricoltori sempre di esercitare i propri diritti quindi di riseminare eccetera eccetera certo poi ci sono nella pratica a volte succede il contrario se avete in mente tutte quelle quei suicidi dei contadini che ci sono stati nei decenni addietro chiaro che poi quando arrivano le imprese sul territorio e hanno comunque un margine d'azione ti impongono contratti capestro e qualcosa va sempre male però c'è una norma che ha come dire una sua dignità internazionale ed è un unicum soprattutto questo è importante da dirlo perché sostanzialmente c'è soltanto la Norvegia a mia memoria che ha una legge che dice invece una cosa un po' diversa cioè paghiamo i breeders paghiamo quelli che fanno le varietà protette da proprietà intellettuale per starsene tranquilli e lasciamo che gli agricoltori possano riseminarsele cioè la differenza quasi quasi la paghiamo noi quindi fondamentalmente si mette in mezzo lo Stato e tutela gli agricoltori dalla necessità di dover costantemente rifornirsi dalle imprese a parte questo non c'è una vera difesa dei diritti degli agricoltori a riseminare e a riutilizzare le sementi e con con l'asdoganamento delle nuove biotecnologie e dei prodotti associati il rischio è che questa cosa vada intensificandosi e acquendosi dal nostro punto di vista non è la cosa ideale cioè noi cercheremo e lo stiamo già facendo prima di andare in India mi toccherà un viaggio a Bruxelles la settimana prossima dove incontriamo tutte le organizzazioni europee e gli scienziati che del del Lenser quel gruppo che vi raccontavo eh di esperti eh per la responsabilità sociale e ambientale eh in Europa per poter provare a ragionare insieme su come eh possiamo arginare questa deregolamentazione su come questa proposta avanzata dalla Commissione Europea possa essere in qualche modo eh fermata vorremmo che l'Europa rimanesse come dire un presidio dove il principio di precauzione ancora conta qualcosa vorremmo che l'agricoltura ripartisse da questo e non da da quello eh anche perché come come dicevamo prima eh con questo magari chiudo il fatto di continuare a pensare che la l'agricoltura contadina debba competere con l'agricoltura industriale in quanto a rese in quanto a commercializzazione sul terreno dell'agricoltura industriale cioè in una società dove abbiamo la grande distribuzione organizzata che domina il commercio fondamentalmente gli intermediari potentissimi a monte le imprese sementiere agrochimiche che ti danno i pacchetti eh di sementi e pesticidi annessi a valle i sussidi dello Stato e dell'Europa che fondamentalmente vanno a tutto quel sistema lì è chiaro che non non abbiamo le potenzialità dal domani di competere e non dobbiamo neanche soltanto pensare alle rese perché se poi con tutte le estensioni monoculturali di mangimi per allevamenti intensivi che abbiamo fatto se noi facessimo piazza pulita di questi settori devastanti avremmo un mucchio di terra da poter coltivare in maniera diversa probabilmente forse andrebbe risanata forse non tutto sarebbe possibile coltivarla con un certo tipo di varietà ma come dire è proprio chiaramente una come dicevamo alla fine del question time con Salvatore è tutta una società che va rimessa in discussione una società che oggi si basa su appunto distintività uniformità e stabilità delle piante invece che sulla loro diversità e sulla loro mutevolezza sulla loro capacità di adattamento anzi più sono adattabili e mutevoli meno sono registrabili e quindi brevettabili e quindi vengono messe da parte e non vengono favoriti dalla regolamentazione che invece sostiene con tantissimi soldi pensate che i soldi della PAC che sono un terzo del bilancio europeo vanno per l'80% al solo 20% delle imprese che sono le grandi naturalmente su un milione di agricoltori che abbiamo in Italia il 20% si prende l'80% dei fondi europei così chiaramente non può essere nel senso che e comunque non ci stanno dentro perché stanno in crisi e appunto hanno sempre bisogno di sussidi assicurazioni pagate dallo Stato per gli eventi estremi fondi per le catastrofi eccetera eccetera cioè è qualcosa che vive in perdita da molto tempo e quindi va riformato e va riformato completamente la battaglia sugli OGM e la battaglia sugli OGM ma è parte di una battaglia più grande per la transizione verso l'agroecologia che io credo sia proprio il modello quello dell'agroecologia contadina quello che fate voi stessi e voi stessi nei vostri campi quello che deve essere portato in palmo di mano da un paese e non invece il contrario grazie Francesco del tuo intervento e della tua chiarezza anche di esposizione se c'è qualche domanda a Francesco a Salvatore se hai avuto qualche se hai anche te qualche come dire volevo fare un paio di commenti il primo è quando mi sono dimenticato di parlare di uno dei motivi per cui il biologico non permette gli OGM è proprio di natura biologica quella è una legislazione che ha un grosso fondamento biologico perché come dicevo prima l'OGM è per sua natura vulnerabile cioè la caratteristica che possiede viene superata dall'avversario che intende combattere cioè l'OGM tollerante agli erbicidi l'erbicida la pianta infestante diventa resistente e quindi allora a quel punto ti rendi conto che l'agricoltore biologico non se lo può permettere perché se per caso l'OGM perde la resistenza l'agricoltore biologico o perde il racconto o perde la certificazione per il biologico perché deve comunque trattare per proteggere la cultura per cui mette l'agricoltore biologico in una situazione di estrema vulnerabilità molto interessante tutti i dettagli che ha dato Francesco sulla differenza fra il brevetto e la pioletiva vegetale volevo semplicemente ricordarvi per farvi capire com'è grave la situazione che il CREA in Italia usa la pioletiva vegetale su alcune cioè questo è un ente pubblico in cui i ricercatori hanno il loro stipendio e in aggiunta si aucofinanziano con la pioletiva vegetale sarebbero loro io e mia moglie abbiamo lavorato per tantissimi anni come voi sapete nei centri di ricerca internazionali e noi abbiamo sempre sbaglierato come gli ultimi baluardi della ricerca pubblica noi nell'80 fino direi al 95 ricevevamo fondi quasi diciamo finanziamenti quasi a fondo perduto in genere dai ministeri degli esteri di tantissimi paesi poi critiche sulle duplicazioni che c'erano fra diversi centri conflitti eccetera gran parte del denaro pubblico è andato scemando e oggi il maggiore finanziamento di quei centri dove per fortuna noi non lavoriamo più è la Gate Foundation con le conseguenze che vi lascio immaginare l'altra cosa quando si parla di biotecnologie noi stiamo parlando di un certo tipo di biotecnologie che a me piace chiamare biotecnologie invasive cioè che mettono le mani del DNA lo cambiano perché c'è un altro tipo cioè certe tecnologie se voi pensate per esempio all'identificazione dei criminali tramite il prelievo del DNA attraverso la saliva e io a quello lì gli ho cambiato il DNA io lo leggo semplicemente per cui anche nel miglioramento genetico il sapere esattamente qual è il DNA di due piante mi consente di di scegliere quella che sulla base del DNA ha le caratteristiche migliori ma non glielo ho cambiato il problema oggi è che non tutto quello che noi vediamo nelle piante è dovuto al DNA come dicevo prima i due termini che si usano sono genotipo che è quello che noi siamo in funzione dei nostri geni e fenotipo è quello che tu vedi di Salvatore Ceccarelli perché è il suo genotipo che è stato modificato nel mio caso dall'età da tutta una serie di cose e questo vale per tutti gli organismi viventi cioè quello che noi vediamo non è necessario è il risultato dell'interazione tra il genotipo e l'ambiente e io da tanto tempo poi prima o poi bisogna lo devo fare e di scrivere un articolo intitolato genotipo genotipo virgola ma noi mangiamo fenotipi e tu puoi mettere le mani e dire poi alla fine nel piatto di patate nel piatto di pasta asciutta nell'inzalata tu mangi un fenotipo cioè il risultato dei geni modificati dall'ambiente per cui non bisogna sottovalutare tutto questo un articolo un articolo di Nature a proposito delle pubblicazioni dell'interferenza di cui parlava Francesco fra industria e ricerca denunciava che negli Stati Uniti molti dei ricercatori che vanno a conferenze o che pubblicano lavori scientifici in favore degli OGM questo riguardava i vecchi OGM hanno addirittura la loro presentazione cioè il mio set di diapositive se io parlavo a favore degli OGM non l'avevo preparata io ma l'avevo preparata chi mi pagava il viaggio e l'albergo per andare a quella conferenza e questo lo denunciava Nature per cui infatti io dico sempre quando voi leggete un articolo scientifico la prima cosa andate in fondo e leggete i ringraziamenti perché da quelli vi dicono se conviene leggerlo oppure no il trattato fa o del quale tu parlavi Francesco io conosco molto bene lo spagnolo che è stato che ha combattuto per quel trattato e lui mi diceva alla fine abbiamo dovuto accettare come compromesso quella piccola nota a pie pagina fatte salve le leggi nazionali esatto perché altrimenti non sarebbe mai passato non sarebbe mai passato perché avevi gli Stati Uniti diciamo il Nord America e l'Europa che se non avevano la sovranità nazionale ma anche la Siria per esempio in Siria non venivano riconosciuti i diritti dei contrari per questo noi abbiamo avuto conflitti permanenti con il ministro dell'Agricoltura Siriano perché noi fondamentalmente tra le cose in quel paese restituiamo il potere politico ai contadini che facevano le loro varietà e questo che rispettava esattamente i principi del trattato per loro non era tollerabile questa è una cosa incredibilmente assurda scusate io non ho rinunciato al mio caffè delle 5 hai fatto bene di solito c'è il tè delle 5 ma questo viene dall'Agricoltura solidale con i paesi del Sud America c'è un fornitore qui nelle Marche vicino che è un sogno sentirlo parlare dei suoi rapporti con i contadini che producono caffè in quel paese nel nostro piccolo possiamo fare queste cose abbiamo una domanda qua da ci arriva da YouTube ve la dico al volo vediamo chi riesce a rispondere allora è se tutti si mettessero a fare selezioni in campo con la varietà genetica di cui disponiamo oggi aumenteremo la varietà genetica di cui disponiamo attualmente o ci limiteremo a conservare quella ancestrale tramandata finora? sarà domanda dipende da che tipo di varie se parli di una varietà moderna per quello che diceva Francesco prima praticamente perdi il tuo tempo perché le piante sono geneticamente identiche mutazioni spuntumane o qualche effetto ambientale quegli effetti ambientali tipo l'epigenetica che si trasmette da qualche generazione ma sono anche quelli potremmo avere da un momento all'altro quello che invece che conviene fare ed era la nostra idea quando abbiamo fatto le popolazioni evolutive era di fornire ai contadini un materiale molto variabile dal quale loro ognuno in maniera indipendente si selezionava la varietà per esempio tu hai un campo di frumento semini due ettari per la produzione poi semi da una parte 100 metri quadrati lì dentro si cammini intorno scegli tutte le spighe più belle quindi mantieni ancora diversità perché non sono non è soltanto una spiga però ti fai una popolazione che è un po' più uniforme ma non del tutto uniforme che è fatta soltanto delle piante più belle ovviamente questo lavoro tu te lo dovresti rifare una volta ogni tanto perché come diceva prima Enrico gli anni sono molto diversi gli uni dagli altri per cui le piante che sono molto belle che danno delle spighe molto lunghe con dei semi molto grandi privi di malattie resistenti all'allettamento tutto quello che tu vuoi potrebbero non esserlo l'anno dopo per questo io dicevo conservare variabilità nella forma di noi abbiamo per esempio un contadino qui vicino a cui andiamo a fare la spesa ogni tanto lui ha un'azienda abbastanza piccola 14 ettari ma lui credo che coltivi qualche cosa come una ventina di cose diverse fra alberi ortaggi cereali eccetera ed è la sua grande difesa perché come dicevamo prima quest'anno va male per la vita però tu puoi avere dei guadagni da altre colture per cui questa differenziazione tra colture varietà diverse della stessa coltura che magari maturano sempre un altro contadino da quale noi andiamo a comprare le mele le mele lui a forza si era veramente stancato di sentirmi parlare che ha deciso di eliminare il suo vecchio meleto e adesso ha un meleto fatto di filari di sei varietà diverse che maturano in tempi diversi per cui lui ha eliminato la necessità di dover mettere la roba in frigorifero e venderla naturalmente per cui ha ridotto naturalmente anche le sue le sue spese per cui su tutte cose che poi accennavo prima riescono poi a incastrare l'uso della diversità anche dal punto di vista economico e anche della resilienza aziendale mi viene da dire il fatto appunto di avere comunque a fine anno se non va bene una cosa andrà meglio un altro quindi la diversificazione aziendale la multifunzionalità aziendale è qualcosa che anche noi del collettivo cerchiamo di questo esempio del contadino che vende le mele tra le altre cose mi fa ricordare un episodio abbastanza sconvolgente nel senso che l'ultima volta che noi siamo andati c'era da parte una cassetta di mele e lui mi diceva ecco io queste qui non le posso vendere nemmeno nemmeno a gas a uno dei gas che lui riforniva abitualmente e se tu guardai queste mele a malapena riuscivi a trovare queste piccole questi piccolissimi danni provocati da una grandinata per il futuro erano chicchi molto piccoli ma lui ce l'ha voluta regalare a sua volta nonostante le nostre resistenze un sacchetto e io mi chiesto mi sono chiesto un gruppo di acquisto solidale che non compra delle mele con dei piccolissimi danni dalla grandine ma dove finisce da dove comincia dove finisce la solidarietà sì io Salvatore è vero un esempio invece virtuoso di un gruppo di acquisto nostro che per fortuna c'è loro capendo anche l'esigenza dell'agricoltore ci ordinano prima i fagioli per esempio il quantitativo che prenderanno e noi seminiamo in anticipo i fagioli per loro sappiamo già che una parte sarà per loro quindi ci facciamo una programmazione apposta e una parte in più per il nostro negozio diciamo e questo è proprio il senso che dovrebbe avere secondo me un gas e anzi se c'è qualche gas in ascolto vorremmo dire questo per noi piccoli agricoltori avere il supporto di un gruppo d'acquisto solidale appunto ne diamo a quella parola lì la solidarietà tra noi che vi garantiamo di dare un prodotto con tutte le maggiori qualità che possiamo ma adesso dalla stessa parte se poi viene fuori un prodotto che non è al top diciamo non deve essere diciamo rifiutato o buttato ma magari c'è il compromesso ci può essere un cambio di prezzo però c'è già questo accordo iniziale in cui io do fiducia a te ti do la quantità che ti prenderò ci fa lavorare con più meglio anche perché sappiamo già che è un prodotto venduto e si ha un rapporto di fiducia con il nostro gruppo di acquisto e infatti è molto triste sentire che certi gruppi vanno a vedere il pelo nell'uovo diciamo su certi prodotti quando evidentemente non hanno capito la dinamica che ci sta sotto anche nel lavoro e nella difficoltà di riprogrammazione sai quante volte scusa no 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 avevo finito prego sai quante volte noi diciamo ai consumatori guardate cercatela la frutta con qualche difetto cercatela perché quei piccoli difetti quel vermetto sono la nostra salvezza e la salvezza del pianeta perché se lui riesce comunque a sopravvivere significa che non si deve evolvere se non si evolve e quell'agricoltore non ha bisogno di nulla riesce a fare riesce a continuare a coltivare così come ho coltivato prima non è che c'è poi il vermetto più aggressivo che c'è bisogno di più chimica per questo ti dicevo che il nostro bersaglio preferito sono i consumatori certo certo è anche una è solo il bersaglio più difficile è un grosso impegno appunto anche per noi che siamo in campo e anche a dover spiegare ecco ovviamente è troppo oneroso deve essere un cambio appunto culturale che viene da vari fronti da vari soggetti insomma interessati e questi incontri servono anche per questi anche se saranno più gli addetti ai lavori ad ascoltarli ovviamente perché i termini i argomenti sono tecnici però facciamo come collettivo abbiamo anche questo interesse e impegno io mi aggancio a questa domanda proprio per chiedergli una domanda fare una domanda a Francesco quindi come consumatori come produttori ma anche consumatori quali sono diciamo le prossime come sarà lo sviluppo di questo scenario e come poterlo affrontare ecco più serenamente possibile mi viene da dire ecco come riuscire a informarci prima di tutto quindi una comunicazione che sia trasparente come questi incontri appunto che abbiamo organizzato mi auguro noi già abbiamo messo a tutta per far sì che siano degli incontri in cui abbiamo sentito un'opinione anche l'altra quindi ognuno poi si faccia la propria opinione con la propria sensibilità però è importante come consumatori sapere come affrontare la situazione e anche sul discorso di tracciabilità e come poterla gestire grazie Enrico è chiaramente la domanda del secolo nel senso come facciamo adesso allora i tempi che abbiamo davanti sono questi da luglio siccome si chiamano semestri europei da luglio a dicembre e da gennaio a giugno ci sono normalmente in ogni anno due stati che assumono la presidenza dell'Unione quindi sono due governi che si incaricano di prendere dei percorsi normativi e portarli avanti coordinando un po' il lavoro dell'Unione europea da luglio a dicembre è la Spagna che ha messo purtroppo tra le sue priorità portare a casa la deregolamentazione di questi nuovi OGM quindi cercherà con tutte le sue forze lo sta già facendo in questi giorni dove ha convocato i governi per delle riunioni i governi nazionali per delle riunioni informali in Spagna la prossima sarà il 5 settembre quando invece noi organizzazioni della società civile saremmo a Bruxelles per la nostra riunione e quindi intende far passare questa proposta della Commissione europea il più possibile non cambiata non emendata per darle una rapida attuazione dai due come dire foro fora dove deve essere discursa il primo è il Parlamento europeo e il secondo o parallelamente è il Consiglio dell'Unione Europea cioè il vertice dei capi di Stato di Governo e dei ministri competenti in questo caso i ministri dell'agricoltura quindi questi due organi dovranno riunirsi e parlarne e dare un'opinione rispetto alla proposta della Commissione europea che è il terzo organo della triade diciamo così che governa poi che forma il sistema di governance dell'Unione Europea e a questo punto raggiunta la proposta poi di mediazione fra le tre che verranno avanzate diventerà effettiva e diventerà quindi un regolamento il regolamento è diversamente dalla direttiva è un atto dell'Unione Europea che diventa immediatamente esecutivo nei Paesi membri quindi una volta che viene messo nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea elegge anche per l'Italia per dire quindi nei prossimi cinque mesi quattro mesi questo percorso vorrebbe essere portato a casa se non ci riesce la Spagna subentrerà il prossimo presidente di turno dell'Unione quello che è lo Stato che prenderà la presidenza dal gennaio a giugno prossimo che però avrà molto meno tempo perché a maggio prossimo se ricordo bene ci sono le elezioni europee quindi si va a votare e cambia tutto il Parlamento quindi diciamo c'è tempo ma non c'è così tanto tempo per portare a casa un dossier così scottante soprattutto più ci si avvicina alle elezioni più i parlamentari avranno timore a prendere in mano una patata bollente come questa perché sanno che la stanno mettendo in tasca ai consumatori e agli agricoltori e quindi probabilmente non vorranno più si avvicina all'aumento del voto prendere in mano questo dossier farsi rileggere prendere in mano questo dossier quindi quale sarà la partita che cercheremo di giocare spero tutte tutti insieme cercare di evitare che questa regolamentazione venga approvata bocciata è difficile da dire ma almeno che evitare che venga approvata a livello politico europeo con tutti i modi possibili cioè da un lato consumatrici consumatori come dire che non hanno affiliazioni organizzazioni o sono quindi persone che vivono la loro vita fuori dai network organizzati possono comunque partecipare ad eventi diffondere informazioni al proposito possono invitare le associazioni come la vostra come invitare Salvatore invitare noi invitare tante tanti altri che si battono su questa tematica a parlarne di più possono interrogare le loro amministrazioni locali per chiedere cosa ne pensano le loro organizzazioni agricole e così via dall'altra parte alle realtà più organizzate spetta secondo me il compito di fare più sistema perché siamo in un momento critico e forse unico dopo gli ultimi vent'anni per poter costruire una rete un fronte chiamiamolo così di realtà organizzate che possano da un lato fornire controinformazione in maniera organizzata e più forte quindi che possano arrivare gli stessi media ai quali arrivano i promotori con delle argomentazioni serie non campate in aria come quelle che spero abbiamo cercato di raccontare oggi Salvatore e anche noi di Crocevia cioè appunto il problema della brevettazione è un problema chiaro visibile insomma di appropriazione della biodiversità da un lato dall'altro di concentrazione del potere nelle mani di pochi riguardo alla cosa più importante che c'è che sono i semi e il cibo e dall'altro appunto anche i rischi tecnici di queste tecnologie e in più il passo in più sarebbe quello che come realtà organizzate oltre alla controinformazione riuscissimo a fare della pressione cioè riuscissimo ad attaccare i livelli della governance quindi il ministero dell'agricoltura gli assessorati regionali e come dire e la parte europea naturalmente questo verrà fatto per far sì che spassi la voglia a queste persone di portare avanti questo genere di deregolamentazione fino a che non arrivi il voto e allora lì c'è un grande rimescolamento delle carte e si vedrà cosa ne viene fuori dopo ad oggi non sono molto ottimista sul fatto che avremo un prossimo parlamento europeo schierato nettamente contro i nuovi OGM però il rischio anzi è che si vada verso un Parlamento di destra destra quindi neanche la grande ammucchiata che abbiamo oggi fra centrosinistra e centrodestra ma forse addirittura una possibile maggioranza di destra è ancora molto da vedere di solito l'Europa ha gli anticorpi per queste cose non li ha per le grandi ammucchiate purtroppo però di qualcosa dovremo con qualcuno dovremo parlare spero in qualche modo abbiamo però una serie di paesi schierati in un certo modo che la maggior parte sono favorevoli l'Italia purtroppo è portabandiera di questa deregolamentazione abbiamo però l'Austria che è molto biologico è il primo paese per superficie biologica in Europa che è nettamente contrario alla deregolamentazione abbiamo il ministro dell'ambiente tedesco che è contrario il ministro dell'agricoltura nicchia perché uno è verde l'altro è di centrosinistra e quindi hanno chiaramente nella coalizione nella grossa coalizione hanno delle visioni non del tutto omogenee abbiamo sorprendentemente non so neanche quanto però diciamo il gruppo di Wiesegrad è quello che viene tanto come si dice attaccato per le sue politiche illiberali e soprattutto razziste quindi l'Ungheria e la Polonia che sono che hanno detto specialmente l'Ungheria mi pare non ne vogliamo sapere di questa deregolamentazione punto è quando ti riunisci nel Consiglio dell'Unione Europea cioè nello spazio dove i capi di Stato e di Governo oppure in questo caso i ministri dell'agricoltura si devono sedere e decidere cosa ne pensano di questa deregolamentazione poi devi votare e devi votare un regolamento con una maggioranza qualificata che è un numero che vuol dire se ricordo bene il 55% dei paesi seduti con almeno il top il 45% della popolazione devono esserci questa proporzione per farlo passare e rischia di non esserci quindi perché se sempre più paesi si mettono di traverso e chiedono o si astengono o votano contro anche se la proposta dovesse passare con una maggioranza se la maggioranza non è diciamo assoluta mettiamola così o qualcosa di molto simile il rischio non passa viene rimandata dalla Commissione Europea perché non c'è accordo tra i paesi e quindi la proposta salta quindi il tentativo è anche lavorare nel Consiglio dell'Unione Europea e quindi in questo spazio sui governi e laddove i governi ascoltano le voci di chi li parla o diciamo di certi di alcune parti che normalmente non ascoltano e cercare di farti sentire per evitare che prendano una posizione che poi ci torna tra capo e collo questo è un po' quello che abbiamo davanti nello stesso tempo abbiamo lo spazio internazionale della FAO dove purtroppo è uno spazio molto esclusivo nel senso che non ci sono molti partecipanti come movimenti contadini e organizzazioni di supporto come la nostra siamo riusciti a ritagliarci uno spazio nel dialogo internazionale quindi saremo anche lì a portare questa tematica specialmente per il fatto che lì c'è un tema molto grande che non sia ancora stranamente ancorato nei continenti e nei paesi che è quello della digitalizzazione delle risorse genetiche su questo magari anche Salvatore può darci una sua opinione cioè adesso per fare breeding molto spesso devi prendere le risorse genetiche o puoi prendere le risorse genetiche da un sistema multilaterale che è un network di banche del germoplasma internazionali che si sono votate al trattato delle risorse genetiche che quindi seguono le regole decisi lì questo sistema multilaterale ha delle regole che dicono chiunque prenda il materiale da qui a meno che non sia un ricercatore lo deve pagare perché lo userà per scopi commerciali quindi ci farà sopra del profitto e quindi una quota di quel profitto lo deve restituire cosa è successo in realtà che quindi il sistema multilaterale se lo sono snobbato quasi tutti le aziende le multinazionali nessuna ha preso dei semi lì e poi con la pianta che ha creato ha fatto un profitto miliardario e ne ha dato una fetta alla FAO per redistribuirla ai piccoli contadini che hanno originariamente creato quella biodiversità che poi è stata chiusa nelle banche del germoplasma la maggior parte di persone che hanno fatto gli accessi a quelle banche del germoplasma sono mondo della ricerca cosa è successo però negli anni sempre più spesso si è lavorato su queste risorse genetiche digitalizzandone le sequenze quindi facendo il sequenziamento del genoma e pubblicandolo su riviste Open Access o su database quindi è oggi disponibile la possibilità e oggi è disponibile al pubblico e a chiunque l'accesso a milioni di sequenze genetiche che relative a dei caratteri potenziali o anche già conosciuti di piante di varietà vegetali e di piante cosa succede? la possibilità delle imprese quindi di avere questo serbatoio di risorse genetiche digitali a cui accedere e non più quello fisico perché se ne fregano delle banche del germoplasma fa sì che molti stiano andando lì a prendere nei database pubblici le risorse genetiche che poi tramite processi chiamati di biologia sintetica che è un processo ulteriormente diverso ancora dagli OGM cioè la costituzione della vita da zero comunque del materiale genetico da zero attraverso processi appunto di biologia di sintesi che sono molto interessanti che mi riprometto di studiare meglio riescono utilizzando computer e materiali di laboratorio a ricreare quei tratti genetici che poi inseriscono modificando il genoma di una pianta e che possono poi brevettare quindi loro usano risorse genetiche originariamente legate alla conoscenza degli piccoli contadini che le hanno sviluppate e che le hanno rese quello che sono ma poi digitalizzate e quindi accedono soltanto alla parte digitale da lì sviluppano con la biologia sintetica delle piante brevettate e nessuno risale questa catena perché non c'è una tracciabilità efficace e obbliga le aziende a non brevettare quel materiale o comunque almeno a pagare la FAO e il trattato delle risorse genetiche per quel materiale derivato dalle informazioni genetiche digitalizzate e mi rendo conto che è un tema molto complesso ma è un tema molto grosso perché significa che qualunque potenziale pianta o tratto genetico sviluppato dagli agricoltori può essere appropriato in questa maniera senza più avere una tracciabilità e quindi sapere che è stato preso fisicamente è stato legato fisicamente a una risorsa ma è poi digitalizzato e quindi fondamentalmente un tratto scoperto dal lavoro degli agricoltori nei campi dei secoli può essere preso e infilato in una pianta modificata brevettato e diventare improvvisamente proprietà di un'azienda le NGT e i nuovi OGM sono come dire lo strumento principe per realizzare questo tipo di modifiche insieme alla biologia sintetica quindi fondamentalmente per ipotesi Magui Castelè un agricoltore della Confederazione Paisan che è uno dei massimi esperti nei nostri movimenti di questo DSI che farebbe la Digital Sequence Information riesce e è in grado di spiegarlo molto bene e lui afferma che fondamentalmente da adesso in poi ci sarà la possibilità di come dire reclamare la proprietà da parte delle imprese di tratti che sono stati magari originati molto lontano dal loro laboratorio dal lavoro dei piccoli agricoltori quindi come dire l'evoluzione delle tecnologie biotecnologie biologia sintetica e della digitalizzazione quindi la capacità di processare dati in quantità e quindi l'inserimento di questi dati in database però accessibili a tutti open access fa sì che ci sia la possibilità di predarli utilizzarli senza tracciabilità senza dire che vengono dal lavoro dei contadini e quindi senza remunerarne il lavoro e invece brevettandli quindi questo a livello di FAO è un lavoro che cercheremo di fare la settimana prossima quando saremo al simposio in India sui diritti degli agricoltori come sempre stiamo cercando di fare ultimamente quando seguiamo i negoziati internazionali e attraverso la voce dei contadini perché sono loro che parlano noi siamo soltanto organizzazioni che supportano la loro partecipazione dire che l'informazione genetica e l'informazione digitale vanno insieme non si possono scendere quindi tutte le informazioni digitalizzate sulle sequenze genetiche vanno associate alla loro manifestazione fisica altrimenti è possibile appunto appropriarsene senza spartire benefici con nessuno anzi monopolizzandole in mano a pochissimi soggetti questo è qualcosa che Nord America ed Europa non vogliono assolutamente quindi continuano a sostenere che la sequenza digitale sia una cosa sia un dato semplicemente lì soltanto da prendere e l'informazione genetica la risorsa genetica il seme sia invece la materia quello che noi cerchiamo di fare è unire queste due cose e dire che siccome una è l'espressione dell'altra non è possibile appropriarsene indebitamente infatti questa è una forma moderna e sofisticata di pirateria genetica io sono stato per anni in contatto con Manuel Ruiz mi sembra un avvocato peruviano che ha cercato di difendere le popolazioni dell'Amazzonia da una rapina continua delle loro conoscenze prima ancora del materiale genetico basterebbe che questa informazione venisse applicato il trattato per cui così come io sto richiedendo una collezione ridotta di di miglio della banca del germoplasma degli Stati Uniti e mi arriveranno queste scatole con dentro un foglio che si chiama in italiano è un accordo di trasferimento di materiale per cui nel momento in cui apro la scatola mi impegno a non mettere un brevetto su quel materiale e a darlo ad altri alle stesse condizioni ovviamente se poi gli altri e noi siamo stati in qualche modo abbiamo corso il rischio di essere sfruttati quando un nostro collega egiziano ci chiese del materiale genetico e noi ci siamo insospettiti perché saprevamo che il materiale genetico non era accettabile in Egitto per motivi religiosi fondamentalmente l'orzo distico che di solito viene usato per la birra non viene coltivato in Egitto per motivi se t'arriva una richiesta di germoplasma di di orzo distico c'è di sotto un pulso di bruciato infatti era una multinazionale che si prendeva che utilizzava come cavallo di troia questo ricercatore per acquisire questo materiale questo potrebbe avere delle serie di conseguenze sul materiale che sta a Svalbard assolutamente ma su tutto il materiale del sistema multilaterale che non verrà gli stessi contadini ci stanno dicendo e dicono pubblicamente nei negoziati della FAO noi non vediamo più niente perché noi ci siamo fidati abbiamo fatto le regole globali per tutti noi fornivamo il materiale genetico per la common pool per il common basket lo chiamano per il cestino comune la scatola comune delle risorse genetiche e voi ce l'avete fatti digitalizzare adesso ce le privatizzate pure noi non vediamo più niente quindi vi tenete quella biodiversità vecchissima magari c'è dentro qualcosa di interessante ma la nuova roba non ve la diamo ma Francesco tu probabilmente sei anche al corrente che in piccola scala questo sta avvenendo in Italia con certe associazioni che mettono in piedi questa cosa che si chiama casa delle sementi e se tu non sei socio di quella se voi pensate io posso andare su internet e nel giro di qualche minuto vi dico esattamente quante accessioni di miglio quante accessioni di sorgo quante accessioni di fumento ci sono nella banca del germoplasma degli Stati Uniti nel caso di certa associazione in Italia io non posso farlo a meno che non sia socio e lì dentro c'è del seme che è arrivato dagli agricoltori per cui io adesso con un gruppo di associazioni che vorrebbero associarsi proprio intorno a questo concetto nuovo della conservazione dei semi introdurre il concetto che la casa dei semi non può essere altra di quella del contadino che l'ha conservato è riprodotto e l'idea della casa delle sementi deve essere del tutto virtuale nel senso che un gruppo di agricoltori si mette insieme e fa sapere agli altri che cosa loro hanno ma non che poi il seme deve andare fisicamente in un certo posto perché in quel certo posto poi inevitabilmente qualcuno ha la chiave e questo è molto pericoloso perché non so se voi sapete che i centri internazionali di ricerca quelli nei quali appunto io e mia moglie abbiamo lavorato sono quelli che probabilmente hanno le banche del germopasmo più ricche dunque loro le banche del germopasmo pubbliche per poter sopravvivere perché conservare del seme costa so costa caro credo che la stima sia di sui 600 dollari all'anno per campione se voi pensate c'erano le banche del seme a Licata c'erano 48 gradi fuori e 20 gradi e meno 20 pensa un po' e allora c'è un un organismo che si chiama Crop Trust che è a sede a Berlino perché a Roma non gli avevano dato un locale per chiedere un affitto troppo alto e loro attirano so dorazioni per poter per poter riversare queste banche pubbliche a condizione che tutta la collezione sia duplicata in un'altra banca pubblica in un paese diverso Svalbard non rientra nel concetto della duplicazione perché non è una banca ma è un cavo nel senso che teoricamente che almeno sulla carta io ne ho parlato a lungo con la ricercatrice del ministero norvegese che è responsabile soltanto chi deposita seme sa che cosa c'è in quello scatolone nero e soltanto lui può ritirarlo ma se soltanto lui riceve soldi da una delle quattro multinazionali tutto questo poi gira per cui c'è tra l'altro fanno parte del gruppo di grande il grande gruppo di investimento che sostiene Svalbard mi pare di ricordare tra l'altro non solo però adesso con quello che vi dicevo prima con il fatto che la gran parte del finanziamento pubblico è uscito dal sistema dei centri internazionali di ricerca sostituito non soltanto da un finanziamento tipo Gate Foundation ma anche il management viene in gran parte da queste grandi multinazionali per cui sta diventando di fatto un gruppo privato e questi hanno vicino ad un milione di campioni di semi in molti casi sono i soli ad avere i progenitori selvatici delle nostre piante coltivate sapete che cosa significa questo? Significa che ci sono nel mondo delle piante selvatiche dalle quali sono venute le nostre piante coltivate 10-11-12-12 mila anni fa ovviamente non tutte le piante di orzo selvatico hanno dato origine all'orzo coltivato sarà stata una minoranza perché nel momento in cui tu trovi una pianta che non lascia cadere i semi tu raccogli quelli e li motivi non è che ne vai a cercare un'altra per cui la teoria è che nel mondo delle piante selvatiche i bisnonni delle nostre piante coltivate ci siano un sacco di geni che noi non abbiamo mai utilizzato queste piante i semi di queste piante sono in quelle banche per cui pensa che ricchezza straordinaria e quindi quale pericolo corrono assolutamente affascinanti anche questi retroscena no no dicevo affascinanti queste retroscena che almeno io non conoscevo assolutamente quindi grazie anche di condividere questi aneddoti e queste per questo vi dico Enrico quelli che come voi ancora riproducono sono i nostri eroi perché voi avete in mano il futuro e quindi non dovete assolutamente farvi scoraggiare in nessun modo diciamo che come agricoltori riuscire a salvarsi anche una parte dei propri semi è un gran lavoro quindi abbiamo bisogno di tecnici promotori come voi per migliorare anche la selezione nel piccolo delle capacità che abbiamo perché comunque la produzione è quella che poi ci porta a portare avanti i nostri progetti e quindi riuscire a portare avanti anche i semi è un altro mondo che sicuramente è un passo in più ecco è certo perché uno dei danni secondo noi più grandi che ha fatto o che si sono verificati nel passaggio dall'agricoltura contadina a quella industriale è proprio la perdita di conoscenze sulla gestione del seme oggi sai questa popolazione evolutiva di frumento duro per esempio noi non riusciamo a mantenere pulite perché l'orzo duro il frumento duro è un pessimo competitore per cui se tu ci lasci dentro qualche pianta di tenero qualche pianta di orzo e lo pulisci dopo qualche anno praticamente l'orzo duro scompare e molti contadini noi dobbiamo girare l'Italia con i forzennati a insegnargli a riconoscere le spighe del duro del tenero aiutarli a stare lì a tagluzzare quello è perché altrimenti se lo perdono e l'hanno fatto per dieci mila anni incredibile e quindi per questo noi cerchiamo nel nostro piccolo di dire agli agricoltori beh sì se è difficile è complicato non ve lo ricordate più cerchiamo di rinunciare insieme cerchiamo in qualche modo di farlo perché è importante perché il mercato mondiale dei semi vale miliardi di dollari chi c'ha il semi c'ha il potere controlla il cibo controlla la salute controlla tutto perché lo devi lasciare nelle mani di qualcun altro beh questo potrebbe essere anche potrebbe essere anche da auspicio salvatore per una serie di altri incontri magari più tecnici più formativi nell'ambito dell'autoproduzione del seme noi fra qualche giorno andremo a festeggiare il mio compleanno in due pizzeria io ho messo in crisi due pizzerie che fanno grossi numeri perché stufo di sentirmi raccontare da dove veniva il basilico dove veniva l'acciuga dove veniva il pomodoro ma la farina da dove viene allora entrambe le pizzerie hanno seminato nel giro di pochi chilometri dalla pizzeria campi di fumento evolutivo da cui fra qualche mese si fa la nuova pizza e a questo punto gli ho detto adesso dovete dire ai consumatori chiedimi da dove hai la pizza e la gente quando mangia queste pizza si accorge evidentemente che c'è una differenza ben due ben due ne hai convinti mazza ben due pizzaioli hai convinto eh sì mi sono costato un po' di pizza e un po' di budget sono abbastanza vicino l'altro ma basta fare questa domanda perché poi la gente ti dice ci sono certi ristoranti in cui non posso più andare perché rompo le scatole chiedendole da dove viene la farina non so se c'è abbastanza tempo per fare una domanda perché adesso ho tantissime domande in mente ma vedo che c'è anche poco tempo e non vorrei portarvi a troppo tempo però visto che si stava parlando proprio della tracciabilità del prodotto allora a volte mi chiedo alcune cose riguardano nel senso possiamo dire che più o meno l'ottanta per cento dell'agricoltura mondiale mondiale restiamo qua in Italia comunque l'ottanta per cento dell'agricoltura che abbiamo in Italia è un'agricoltura convenzionale in cui la maggior parte dei semi che vengono utilizzati sono ibridi sono piante ibride e quando vengono commercializzate io tipo compro non so una pasta di un certo tipo di grano o un certo tipo di pomodoro però non è che mi sia scritto se proviene da seme ibrido faccio un esempio più magari nel campo medico per esempio sappiamo che il 79% del cotone a livello mondiale è OGM però quando noi ci mettiamo un cerotto addosso non ci chiediamo e non c'è scritto che il cotone di quel cerotto è OGM oppure se andiamo in ospedale ci fanno una medicazione non ci poniamo dei dubbi ma quel cerotto che mi sta mettendo è OGM o non è OGM quindi a volte mi chiedo se sto discorso tipo o tanti altri esempi come ad esempio l'insulina che è OGM parliamo anche del caglio che comunque è un enzima dello stomaco del vitello che comunque ovviamente non è che possiamo uccidere tutti questi vitelli per ottenere quell'enzima lo riproduciamo in laboratorio e lo cediamo agli elevatori a chi fa formaggio fondamentalmente posso continuare anche sul discorso dei formaggi della produzione diciamo degli allevamenti che abbiamo qua in Italia l'ottanta per cento della soia che importiamo è OGM quindi quello che mi chiedo a volte adesso stiamo cercando di chiedere una tracciabilità di questi prodotti di queste sia NGT che comunque OGM secondo me è giusto assolutamente e mi piacerebbe che venisse anche etichettato anche altre cose ad esempio tipo ad esempio accennavo anche sui cerotti ad esempio vorrei sapere se un cerotto è OGM o no o come vorrei sapere ad esempio non so se quel prodotto visto che adesso abbiamo un problema globale che è la CO2 nell'aria che sta generando un cambiamento al nostro clima vorrei sapere anche se quell'agricoltura che viene fatta per produrre quel cibo ha un'emissione più o meno se è una fattoria che è carbon neutral se è una fattoria invece che produce molto carbonio nell'aria che lo libera oppure lo stocca cioè questo discorso e la faccio breve non so se a volte è chiedere troppo o chiedere troppo poco cioè so se voi avete magari una potete darmi una delucidazione insomma riguardo guarda oggi la medicina un articolo che è uscito su Lancet che è considerata la rivista medica probabilmente più prestigiosa al mondo che sostiene che il cibo che noi mangiamo influenza la composizione e la diversità della nostra flora intestinale la quale a sua volta se cerme sostanze che entrano in circolo finiscono dal cervello per cui oggi tutta una serie di comportamenti soprattutto giovanili vengono associati a un certo cibo che il mondo giovanile privilegiere cosa significa questo? Significa che si comincia a pensare che non possiamo più dire come si è detto sempre in passato siamo quello che mangiamo ma ci comportiamo in funzione di quello che mangiamo e allora io in genere dico ai consumatori pretendete di sapere esattamente che cosa c'è in quello che mangiate perché quello che mangiate ha un grosso effetto sulla vostra salute è di poche settimane fa un articolo in cui hanno esaminato la flora intestinale di una tribù in Tanzania che vive ancora di caccia e pesca di un gruppo di persone in Nepal e di un gruppo di persone in California e sono andati a esaminare la diversità quante specie diverse di microorganismi nella flora intestinale ci sono batteri protozoi virus lievichi eccetera quante specie diverse c'erano nel microbiota nella flora intestinale di questi tre gruppi di persone 700 e passa nella tribù in Tanzania circa 400 in quella del Nepal meno di 300 in quella in California Allora la conclusione non ci rimettiamo la sottanina la lancia andiamo a caccia e pesca se ci va bene però ti dice che cavolo di effetto ha sulla diversità della nostra flora intestinale quello che mangiamo e ci sono esempi addirittura di risposte a un altro articolo che mi ha molto colpito pazienti affetti da melanoma quel tumore della pelle in fase avanzata cioè già ha prodotto metastasi prendono questo gruppo di persone e sottopongono ad una terapia immunitaria alcune persone alcuni pazienti rispondono con regressioni delle metastasi altri non rispondono vanno a cercare di capire qual è il motivo l'unica differenza statisticamente significativa era diversità e composizione della flora intestinale scusa mi sai dire perché con tutti questi casi di persone che avevano la sintomatologia del covid d'accordo tu sai benissimo che ci sono persone anche anziane che l'hanno preso senza sapere di averlo preso altre che sono morte vuoi prendere un campione un campione omogeneo per età per condizione sociale e andare a vedere se c'era una relazione fra le abitudini alimentari e la reazione che c'è stata ad una pandemia come quella del covid perché per esempio in Francia c'è stato uno studio su un campione di una 70.000 persone e le hanno seguite per 15 anni sono andate a vedere quanti quanti tipi di tumore e con che frequenza sono comparsi nel corso di 15 anni bene le persone che andavano che mangiavano prevalentemente biologico ce l'hanno molto di meno e tornando ad un tema di cui mi sembra parlava Francesco uno dei problemi è che è molto difficile poi pubblicare questi lavori scientifici uno dei primi lavori che denunciava gli effetti collaterali indesiderati e non controllabili del CRISP del gene editing è stato pubblicato e poi in modo molto misterioso è stato ritirato dalla pubblicazione contro il parere di 4 dei 6 autori che poi lo hanno ripubblicato da un'altra parte cioè queste cose che fanno scomodo e poi molto difficile pubblicarle se ti ricordi tra l'altro Salvatore tu probabilmente avrai visto dal vivo io ancora non seguivo queste cose la storia di Arpad Pustai che era quel ricercatore dell'università del Ruowin Institute in Scozia che per primo ha scoperto che le patate OGM facevano avevano dei problemi davano dei problemi digestivi anche piuttosto gravi ed è stato silenziato dal governo per non si sa quanto tempo fin quando ha posuto per contratto non poteva parlare se no finiva in gattabuio finché non ha potuto divulgare i risultati alla fine del suo studio ma era uno studio commissiorato dallo stesso governo che lui ha fatto in tutta coscienza e ha trovato che appunto il risultato era negativo e non ha consigliato al governo di approvarlo e quindi per questo è stato silenziato quindi questo era per invece no sull'altra domanda di Dimitri io non credo di avere una risposta compiuta come la tua semplicemente io dico che la richiesta di avere tracciabilità etichettature valutazioni del rischio cioè quello che già c'è non stiamo chiedendo neanche un divieto totale che dal mio punto di vista potrebbe anche essere accettabile se parliamo di modello di sviluppo però stiamo cercando di mantenere quello che c'è fondamentalmente e non più né più né meno nel mio politicamente dal mio punto di vista significa avere la garanzia che questo che questo tipo di prodotti avrà difficoltà di commercializzazione molto più che pormi il problema di quante informazioni chiedo poi alla fine le leggo o non le leggo perché poi capita anche a me di mangiare cibo spazzatura ogni tanto figurati penso che sia nella storia di molti di noi specialmente chi vive nelle grandi città aiuta molto a mangiare cibo spazzatura ogni tanto perché ti rendi conto qual è il problema che il cibo spazzatura è molto buono si è vero ti prendono per la gola questo è assolutamente vero e comunque chiedere anche troppe informazioni se ne sapevi guarda ti prendono per la gola dall'altra invece come però siamo ancora in diretta lascio l'immaginazione va bene bene secondo me io continuo a sostenere che i consumatori in tutto in un cambiamento profondo hanno una grossa responsabilità in primis quello di informarsi quindi spero che anche questi due due incontri che vi ho organizzato siano stati anche informativi e divulgativi e vi ringraziamo nuovamente Salvatore Francesco come ringraziamo anche il professor Andrea Scartini per l'incontro della settimana scorsa per portare chiarezza e maggiore maggiore informazione a riguardo è un tema molto caldo molto vivo e quindi ci sarà sicuramente da riguardare questi incontri anche registrati che rimarranno nel nostro canale se avete piacere Salvatore Francesco potete prendere il link e divulgarlo e condividerlo ecco anche nelle vostre nelle vostre rete i contatti ecco vi ringrazio veramente di nuovo di prendervi il tempo per passare un pomeriggio assieme e divulgare e mi ha fatto molto vicino di riconoscervi grazie per l'invito anche a me tantissimo grazie grazie davvero grazie grazie a tutti buona finissettimana altrettanto buona grazie ancora grazie ciao ciao salutami Antonio quando lo vedi Francesco sarà fatto assolutamente senza dubbio ricambierà a la prossima ciao ciao ciao